Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Comincerei, visto che abbiamo una presenza importante di studiosi e di studiosi, quindi è giusto cominciare. Sono Luca Molinari e vi saluto tutti. Solamente una brevissima spiegazione di una cosa che per noi è molto importante, poi passo la parola a Stefano Cerchetto. Chiaramente con quello che è successo due giorni fa ci siamo posti il problema, il tema se fare o non fare questo incontro, però abbiamo pensato che questa non è una festa, ma è un momento in cui la cultura è al centro, in cui riflettere su Venezia, la sua storia e la storia anche di questo territorio è molto importante, quindi abbiamo pensato che fosse giusto come buona pratica civile e anche come forma di rispetto per quello che è avvenuto e per questa città continuare in questa nostra bella avventura, in questa serie di public program dedicata a Rivoluzione Vedova. È chiaro che da parte mia, da parte del museo, dell'istituzione che rappresento, c'è tutto il cordoglio, il dolore per quello che è successo, per questa città che già soffre e si è ferita in questo atto tremendo, quindi da parte nostra vanno tutti il cordoglio alle famiglie e a chi è rimasto vittima di questo fatto tremendo. Quindi mi sembrava importante, a margine di questo bellissimo incontro, rendere chiara la posizione del museo. E questo è il nostro modo di dire che Mestre è un luogo vivo, in cui si produce cultura, in cui si lavora sulla qualità, la bellezza e che quindi è importante testimoniare in questo modo la nostra reazione a ogni tragedia che purtroppo ogni contesto può attraversare. Quindi io passo la parola a Stefano Cecreto, questo è il secondo incontro di questa bellissima serie che si accompagna a Rivoluzione Vedova. Chi non ha ancora visto la mostra invitiamo a visitarla, chiaramente. e oggi è la giornata, come dire, anche più ricca e impegnativa perché tante istituzioni diverse si vedono compresenti. Ringrazio anche Biennale per la sua presenza, Ca' Fosca, che sono tutti gli studiosi, Alberto Ferlenga, Donatella Calabi, Deborah Rossi di Biennale, Stefano Cecchetto e Roberto Bianchini e Cristiano Chiarotto. Quindi è chiaramente Mario Sneghi che farà la prolusione e che ringrazio moltissimo. Quindi lascio la parola a Stefano Cecchetto e buon pomeriggio a tutti. Il secondo appuntamento di questa serie di incontri che fanno capo proprio alla mostra di Vedova. Il primo è stato appunto quello su Vedova e Tintoretto. E oggi cerchiamo di mettere a fuoco un po' la situazione culturale della Venezia del secondo dopoguerra. dal 1948, quando Emilio Vedova espone alla Biennale con il Fronte Nuovo delle Arti e proprio in quella Biennale c'è il senso della rinascita culturale della città perché appunto oltre al Fronte Nuovo delle Arti c'è la mostra di Pallucchini sulla metafisica e Peggy Guggenheim presenta la sua collezione al Padiglione Greco. In quegli anni appunto c'è una Venezia che si sveglia dopo appunto il conflitto bellico e cerca proprio un riscatto anche culturale. Ecco di questo io adesso, questo diciamo un po' è il tema della giornata di oggi e con questo mi sento proprio di passare la parola al professore Snenghi per una dotta lezione. Grazie. Buonasera. Mi rendo conto che è un po' enfatico leggere come farò ma il pezzo era stato preparato per il catalogo quando in ultimamente si è deciso che invece si poteva usare diversamente. Io me lo trovo scritto, non vedo perché devo riassumere oralmente visto che posso leggere in 27 minuti e così faccio. Una generazione lunga, 1960-1993. Al passaggio dagli anni 50 ai 60 una nuova generazione lunga è alle porte. Almeno tre irriconoscibili centri di emanazione. Lo IUAV, ovvero la Facoltà d'Architettura considerata all'epoca la più vivace d'Italia piena con me di grandi nomi in atto e in potenza con professori che progettano, pianificano e costruiscono anche a Venezia e non solo ricercano e insegnano. La sezione veneziana della FUCI animata e vanamente imbrigliata da un sacerdote e teologo di spicco Don Germano Pattaro e l'affollata sezione di dorso duro del Partito Socialista a San Barnaba che fa capo alla sinistra del partito ma aperta a tutti e lasciata, si può dire, in autogestione a un campo di forze oscillante tra la sinistra storica e i gruppi di nuova sinistra con presenze non solo veneziane e padovane dell'operaismo allo Stato nascente. Sono tre scuole parallele di socializzazione per la generazione e la città che sale che non escludono osmosi e passaggi di campo. Non lontano, tra San Tomà e San Polo anima una libreria e una sala di battiti anche un gruppetto di anarchici tutt'altro che chiuse se stesso anzi, aperto agli incontri fa la sua comparsa anche il vecchio Armando Borghi con la ricercatrice di canti popolari e cantante lei stessa Luisa Ronchini un giro a fine di pittori come Vittorio Vasaglia o Gino Di Franco Vincenzo Eulisse Romano Perusini il critico d'arte Enzo Di Martino ce ne saranno altri, ma io questi ricordo paralleli o contigui e intrecciati i centri di radiazione sono diversi vi cresce e dà voce anche il cantautore Gio De Chino quel tiro Bertelli c'è vita insomma e c'è ricambio pur se nel 1961 gli abitanti della città storica sono già scesi sensibilmente dai 174.000 del dopoguerra a 137.000 e continueranno a scendere nei decenni a venire alimentando il paradigma mortuario che affligge l'immagine di Venezia agli occhi del mondo opposto alla direzione di marcia in terraferma da 97.000 a 161.000 la facoltà di architettura si colloca in una prima fase in zona Accademia di Belle Arti che già ai tempi della Resistenza era un luogo di direzione del movimento e dove oltre che vedova non mancano i pittori tecnicamente e politicamente militanti è di fronte al liceo Marco Polo uno dei due licei classici in centro storico che dà il cambio al Marco Foscarini nella produzione di classe dirigente vi sono appena cresciuti i membri di due delle grandi famiglie della generazione politica ascendente i fratelli De Michelis e i fratelli Cacciari qui in qualche punto bisognerebbe trovare il modo di nominare anche i fratelli Boato ecco l'ho fatto in un secondo momento passa nell'esconvento dei Torentini illustrato da un umo e tutelare non solo degli architetti Carlo Scarpa che da anni distilla i suoi preziosi interventi restaurativi fra biblioteche e istituti universitari il campo Santa Margherita è a due passi ma si raggiunge attraverso San Barnaba e l'antico campo popolare e pubblicizzato la cosiddetta Repubblica di Santa Margherita d'inizio novecento sta diventando un campus complice anche all'arrivo degli studenti di lettere terza facoltà veneziana era nata ai primi degli anni sessenta Ca' Foscari non è materialmente lontana ma gli studenti di economia e le studentesse di lingue e lettature straniere salvo casi singoli come per esempio Giuliano Segre Doge studentesco a Ca' Foscari i rappresentanti nazionali degli studenti di economia sembrano lontani anni luce dagli interessi e dalla mobilitazione politica permanente degli architetti che ripetutamente occupano e autogestiscono la facoltà e i cui studi alludono a una professionalità che fa da ponte tra cultura umanistica e tecnica e risulta più aperta al dibattito e all'impegno la città quella di sinistra e quella politicamente moderata ed ordine del Gazzettino e ai tempi della contestazione anche della polizia si abitua a vedere cortei per le caglie e i campi e alla testa dei cortei la grandeggiante figura scura di Vedova affiancato da Luigi Nono e qualche volta fra i professori da Bruno Zevi radicale e socialista i fatti di luglio nel 1960 anche a Venezia punto di raccordo fra la generazione partigiana e i suoi eredi la Spagna ancora franchista la guerra nel Vietnam il ruolo dell'America i gendarme dell'Italia e del mondo sono gli agenti di mobilitazione di massa Gettiamo a mare le basi americane incitano concitati e frivoli una canzone e uno slogan politica del tempo non è usuale scorgere in quelle dimostrazioni identitarie anche docenti di economia laboratorio direttori sindaci e consulenti di impresa classe dirigente attuale e non futuribile il brodo di cultura unificante è il movimento studentesco di allora almeno sino alla crisi e ai mutamenti di formula del 68 degli studenti e del 69 degli operai dunque l'unione gogliardica dei laici Ugi di cui nel 1962 diventa presidente nazionale di Veneziano Gianni De Michelis e l'intesa e fuci dei cattolici cattolici antifascisti e democratici e infatti negli organismi rappresentativi alleati e non disgiunti dai primi centro-sinistra allargato e pionieristico Venezia e Padova sono tramite le loro tre università un luogo fluido di trasbordi e di fusioni studiano e agiscono fra due città anche i nascenti uomini forti dei decenni a venire Gianni De Michelis 1942 e Massimo Cacciari 1946 un chimico e un filosofo presto tutti e due professori universitari deputati nel PSI e nel PC e l'uno ministro l'altro sindaco ed anche altra prossima e ogni presente figura istituzionale questa a livello cittadino in area radicale e socialista Gian Antonio Paladini Nane presidente tra l'altro della provincia e dell'Ateneo Veneto e l'italianista Cesare De Michelis il cui nome si lega all'affermazione veneziana e nazionale della carattrice Marsilio avviata a Padova negli anni 60 da un brillante gruppo di neolaureati e giovani docenti Toni Negri Paolo Cercarelli Giulio Felisari e anche il più giovane Cesare De Michelis ancora come altrove poco marcata qui in questo gruppo c'era Lula Balbo però sto dicendo poco marcata la presenza politica femminile ma a fine secolo il femminismo e la storia delle donne faranno cambiare le cose rendendo l'area veneta uno dei terreni di esplorazione più fertili e innovative naturalmente l'opposizione cresce sentendosi tale in un contesto ambientale caratterizzato da una forte presenza di moderati e conservatori di varia matrice e gradazione quelli che reinverano la robusta tradizione cattolica veneziana la città dei tre papi e i transfughi che dopo il 43 45 hanno trovato asilo politico nella democrazia cristiana tra il claro esempio il conte Volpi ispiratore intestatario della grande Venezia tra le due guerre esempio dico di passaggio indolore dal regime fascista al dopoguerra guadagnato anche con la geniale mossa di regalare il quotidiano cittadino al nascente partito rifugio in quel vero e proprio arcipelago di isole materiali e simboliche che è l'inafferrabile e composita Venezia da Murano alla Giudecca da Lido a Mestre da San Marco a Marghera un'isola nell'isola è San Giorgio separata e a specchio in faccia a Piazza San Marco un altro grande imprenditore ereduce in ancora più tempestiva ritirata dal fascismo Vittorio Cini vi ha fatto crescere da grande ben consigliato mecenate Nino Barbantini Gino Damerini tra i suoi ispiratori e consulenti la fondazione Giorgio Cini restaurando l'antico convento ponendolo sotto la protezione del patriarca e alimentandovi non tanto eventi quanto preziose raccolte documentarie e studi permanenti di arte e cultura storia linguistica musicologia eccetera affidati alla direzione di specialisti motore l'italianista Vittore Branca segretario generale dal 54 all'88 è uno dei poli della ribadita vocazione internazionale della città della cultura e dell'arte come lo sono o saranno altre prestigiose sedi di esposizione da Palazzo Grassi alla punta della Dogana e in particolare un'altra iniziativa privata illuminata quella della statunettense venezianizzata Peggy Guggenheim dai tempi dell'angelo una interlocutrice e protettrice di vedova con la collezione di opere d'avanguardia collocate a Palazzo Vignard dei Leoni negli anni settanta è a suo modo sintomatico che la storia di Venezia di cui la città si dota a fine secolo nasca sotto la doppia egida della Treccani e per l'appunto della fondazione Cini che sia dedicata a un uomo del fare e fare da grande capitalista Vittorio Cini con un così complesso itinerario del Novecento e che quando superando pregiudizi diffusi si decide in seconda battuta di varcare le colonne d'Ercole del 1797 e di ammettere alla visibilità storica anche l'Ottocento e il Novecento ovvero sia il dopo Serenissima questa Venezia dopo Venezia sia liberalmente affidata alle cure degli studiosi del Dipartimento di Studi Storici Veneziano generalmente poco in sintonia con i committenti anche se proprio due di loro bisogna dirlo Gaetano Cozzi e Gino Benzoni sono per decenni alla Cini i responsabili del settore storico questa dimensione mista che vede la compresenza di strutture pubbliche e private come musei e palazzi museo permanenti Palazzo Ducale il Correr Carezzonico la Corner la Cadoro eccetera o come messe in scena le mostre di grande impatto ebbene questo caratterizza l'impianto non solo culturale ma turistico della città secondo modelli fatti partire a fine Ottocento da Riccardo Selvatico con l'esposizione d'arte poi denominata Biennale e potenziati fra le due guerre con la mostra del cinema e i vari festival dell'era Volpi giunti e rimasti vitali nel secondo dopoguerra e fino ai nostri tempi Luca Pess l'autore chiamato nella storia di Venezia del 2002 a riepilogare gli ultimi quarant'anni è docente di storia alla Viu la Venice International University nata nel 1995 in collegamento con una serie di università estere e che ha trovato collocazioni nell'isola di San Servolo già ospedale psichiatrico che continua a occuparne una parte in forma di documentazione e museo della follia doppia esemplificazione di un ragionato riuso delle isole dell'arcipelago via via private delle loro antiche funzioni militari religiose ospedaliere un problema di carattere generale e continuamente risorgente sino all'attuale caso aperto del che fare dell'isola per esempio di Poveglia davanti a Malamocco evitare l'abbandono e ripensare le definizioni d'uso non sembra solo in senso privatistico alberghiero ma pubblico e differenziato per segnalare la volubilità semantica su ciò che debba prioritariamente intendersi per Venezia con tutte le valutazioni oscillanti che ne derivano anche quando si ragiona in termini di flussi e di cifre si rileva che pure all'interno dal 1926 di un unico comune si continua mentalmente e nel frasario d'uso ad andare a Venezia da una sponda all'altra della laguna dal Lido e da mestre o che non esiste in commercio una pianta stradale che comprenda l'intero territorio comunale e che la segnalazione ufficiale a chi arriva in auto che sta entrando in Venezia non è collocata sul confine ma dove inizia il ponte della libertà e finisce la terraferma campagna può continuare a pensare fra sé il veneziano doc e ironizza un monologo teatrale di Marco Paolini anche su questo lessico autoreferenziale tanto incerto e scomposto cresceranno i referendum per separare dalla città storica madre illustre ma ingombrante la sua duplice creatura troppo cresciuta e diversa Marghera e Mestre il posto di lavoro e il domicilio il primo referendum separatista di 1979 altri ne seguiranno negli anni seguenti e tutti falliranno segno che il sentimento di diversità non annulla il senso del divenire storico su quella che prima di diversificarsi come terraferma è l'altra riva della laguna inizialmente collegata per via Acquea da Canaregio a piazza Barche anche Porto Marghera nasce nel 1917 per volontà economica e politica di veneziani ampliando e diversificando gli insediamenti rispetto a quelli ottocenteschi nell'isola Giudecca e alla Marittima l'identità cittadina sin troppo forte nel nucleo originario o sfuggente nei suoi sviluppi contribuisce a rendere sin dalla denominazione biblico l'esodo dal centro storico di decine di migliaia di abitanti trasformando in un apocalittico segno della fine incipiente un fenomeno di ridislocazione che è di tutti i centri storici citazione da Luca Pess negli ultimi quarant'anni nella storia di Venezia cura mia e distura volto per dare un'idea tra 1951 e 1981 dice Pess il centro storico di Venezia perde il 47,2% degli abitanti quello di Milano il 41,5% tra il 51 e il 71% quello di Bari il 58,1% quello di Roma circa il 54% quello di Genova il 40,4% fine della citazione di Pess sta di fatto che dal 1951 in meno di 50 anni gli abitanti dei sestieri più l'isola della Giudecca scendono dai 175.000 a 68.000 qui andrebbero raggiunti circa 15.000 del Lido in più si spostano a Mestre e dintorni potrebbe essere interpretato come la ricerca di standard di vita migliori specie da parte delle giovani coppie e di chi abitava ai piani terreni invasi dalle sempre più frequenti acque alte non ancora contenute dall'entrata in funzione delle parattie del Mose e culminanti in quella devastante e periodizzante del 1966 ma è anche vero che la comparazione con i processi analoghi di spopolamento del centro nelle altre città qui può nutrirsi e accreditarsi dei sensi di decadenza e di morte alimentati da una visione amputata di Venezia post-Patrizia 800 e 900 due interi secoli tamquan non essent la città era morta e non sapeva di essendo davvero il governo della memoria e la capacità di seguire il mutare e diversificarsi di una storia si dimostrano quasi più difficili che il governo della laguna chiave come sempre della sopravvivenza e vitalità della città unica sotto 60.000 a Moniva Giabra di Miro Dorigo non può esserci Civitas e oggi questa cifra è stata raggiunta svuotata di abitanti stabili per ogni giorno e per quasi tutto l'anno strapiena di visitatori non tutti turisti anche decine di migliaia di lavoratori e studenti che ogni mattina raggiungono Venezia e ogni sera se ne allontano perché dormono altrove e così la piazzetta privata o quasi ormai dell'Iston il suo e giù serale dei giovani appare a quell'ora almeno in certe stagioni desertica e spettrale comunque fra vuoti e pieni assenze presenti stagionali o semplicemente di orario anche l'oggettività delle cifre traballa compresa quella inquietante che la farmacia vicina all'osservatore sorridente e benevolo effigiato nella statua del Goldoni si premura di tenere la giornata con le cifre degli abitanti che scendono di continuo suggerendo l'idea di un'agonia irresistibile che si consumi in diretta la maggioranza del Consiglio Comunale la composizione della Giunta la figura del Sindaco a Venezia a differenza che nei capoluoghi di provincia in terraferma si dimostrano per decenni contendibili prerogativa di cui si è a lungo ben consapevoli si alternano i sindaci democristiani comunisti socialisti repubblicani sperimentando una via che finirà per diventare nazionale nasce a Venezia tra la fine degli anni 50 e lo svolgisi degli anni 60 la nuova formula politica di centro-sinistra si può volerla per opposte ragioni colpire l'opposizione staccando i socialisti e i comunisti o spostare a sinistra la DC nella linea di governo finché è l'ex azionista Riccardo Lombardi la loro stella polare gli autonomisti e le PSI oscillano fra le due ipotesi poi arriverà Craxi anche in Laguna la visione del centro-sinistra pensato in quello che è ancora per poco il suo stesso partito la democrazia cristiana come operazione di consumo del PSI e non già come sblocco dall'immobilismo centrista e allargamento riformatore della democrazia la regista e contrasta Vladimir Dorigo l'ex grande speranza del mondo cattolico veneziano mandato a Roma nell'ipotesi di una carriera politica di spicco in giovanissima età e quasi subito restituito a Venezia perché troppo libero e avanzato rispetto all'equilibrio di chiesa e di partito torna in consiglio comunale e torna a fare l'assessore all'urbanistica all'urbanistica a Venezia a pensare in più che mai difficoltoso e contrastato piano regolatore e intanto preparare una via d'uscita che è dal 58 la rivista Quest'Italia L'unità politica dei cattolici si rompe idealmente in questa piccola rivista d'avanguardia più veneziana che veneta e più nazionale che veneziana Dorigo 1927 è di mezza generazione prima ed è già leader quando gli altri studiano da leader non addirittura quanto Toni Negri un'altra contemporanea grande speranza del mondo cattolico a Padova in parallelo a Venezia non addirittura quanto Toni Negri anche Dorigo guarda e si va evolvendo verso sinistra allevo di Sergio Bettini lo storico dell'arte dell'Università di Padova autore di pagine memorabili su Venezia come lo è stato il socialista Giuseppe Mazzariol storico dell'arte direttore della Querini e fra i più lucidi nel coltivare una idea di Venezia basata sulla possibilità e le vie di una Venezia viva e moderna e nel contempo rispettosa dell'antica Dorigo continua intanto a coltivare il suo terreno disciplinare la storia dell'arte medievale fino a farne una professione nella neonata facoltà di lettere veneziana ma prima e durante elaborando idee forti sulle origini di Venezia dirige anche il Festival del Teatro e rilancia l'archivio storico delle arti contemporanee ASAC della Biennale che nel 1975 trova allora sede su Canale Grande a Cacor della Regina fra i luoghi e le forme del suo impegno e della sua pedagogia politica una ce n'è che finirà per isolarlo rispetto agli spiriti del tempo che vanno invece mutando radicalmente ripensando il modello di sviluppo con tutte le specificazioni del caso Dorigo punta ancora su Porto Marghera anzi l'allargamento di Marghera la cosetta terza zona che verrà predisposta ma non realizzata ma a questo punto non si schierano contro la scelta industrialista a Venezia solo i difensori dello statu quo e i nostalgici alla maniera di Indro Montanelli i misoneisti e antipontisti alla Uietti per esempio prima di Montanelli di ogni tempo e di ogni occasione proliferanti deprecatori e al tempo stesso cultori della morte a Venezia e di Venezia che negli anni 2000 identificheranno un bersaglio persino nel nuovo ponte di Santiago Calatrava sul Canale Grande in memori dei calamorosi abbagli presi a suo tempo opponendosi alla casa Rait in volta nel Canale e all'ospedale di Le Corbusier San Giobbe ma ora ora entrano potentemente in gioco anche il declino di Marghera la crisi della grande fabbrica e le nascenti ideologie antisviluppo desviluppiste che trovano motivazioni in una nuova consapevolezza che con sofferenza diventa anche delle sinistre sindacali e operaie di chimica e in particolare di petrolchimico si muore il petrolchimico 1 e 2 è il grande complesso sorto fra 1967 e 1970 con 13.000 addetti sul totale 31.000 in 218 aziende di varia stazza e natura un processo quello politico culturale e alla fine anche giudiziario avviato dal giudice Felice Casson nel 1996 alla Montedison e ai suoi eredi che è al tempo stesso tardivo e alla avanguardia di una nuova consapevolezza sulla tutela della salute in fabbrica che travolge le vecchie normative o assenza di normative intanto dal 1975 un altro pensatoio si è aggiunto agli altri è l'Istituto Gramsci Veneto nato a sua spinta di qualcuno fra gli ex studenti di vent'anni prima in particolare Massimo Cacciari che ne affida la gestione ai suoi che ai bordi della sinistra storica vanno facendosi corrente e punto di riferimento interno e esterno al PC veneziano l'architetto veneziano Marino Folin rettore dello UOV e il filosofo padovano Umberto Curi qui idealmente matura la candidatura a sindaco di Cacciari 1993 2000 e 2005 2010 il sindaco filosofo che rinverdisce cento anni dopo l'eccezione e il mito del sindaco poeta Riccardo Selvatico inventore dell'esposizione d'arte nel 1895 e qui in certo modo va a finire la nostra storia se non addirittura la storia in un giorno di dicembre del 1993 a quattro anni dalla fine del PC e proprio mentre comincia la prima sindacatura di Cacciari i gestori acculturati di una vicina osteria il paradiso perduto nomen omen e il giovane coordinatore scientifico del neonato istituto storico della resistenza notano sulla riva di un canale un inedito un insolito accumulo di scatoloni e di carte quando si interviene molte sono già andate al macero si salva solo una parte dell'archivio della fondazione Gramsci e in particolare della federazione veneziana del PC documenti questi pazientemente raccolti da Cesco Chinello il protagonista della beffa del teatro Goldoni nel marzo 1945 ex segretario federale ex parlamentare e nella sua seconda vita storico di riferimento per Marghera e la sinistra a Venezia ora questa documentazione è costruita è costruita all'Ives l'istituto storico dell'esistenza che con il passato ha un rapporto più disteso amiamo pensare che almeno non siano stati buttati via storia e memoria banalmente e solo per una sopraggiunta mancanza di spazio nei locali che sin qui le ospitava ma per uno sberlezzo della filosofia e della nuova politica alla storia e in fondo a se stessi come eravamo io ringrazio il professore Snenghi per questo escursus spazio temporale nella Venezia appunto degli anni dal secondo dopoguerra fino ad oggi e mi riallaccio anche un po' a quello che lui ha suggerito invitando adesso al tavolo appunto cioè partendo anche dal diciamo dal nome di Vladimir Odorigo direi che è d'obbligo lasciare la parola all'avvocato Deborah Rossi dell'archivio storico della Biennale di Venezia e inviterei al tavolo anche il professor Berlenga e la dottoressa Calabi per cioè vi lascio il tavolo per una diciamo un approfondimento su quello che sono il ruolo delle istituzioni anche nella città ci sediamo grazie mille grazie innanzitutto per l'invito porto i saluti anche del presidente della Biennale Roberto Ciccudo la Biennale di Venezia è interprete della contemporaneità contemporaneità che non è riferita solo ai settori dell'arte nei quali operano i suoi direttori nei quali operano i suoi direttori ma è anche contemporaneità rispetto a tutto ciò che accade nel mondo vista la sua vocazione internazionale e nella città di Venezia con la quale ha un legame inscindibile e quindi il rapporto tra la Biennale e Venezia come parlarne abbiamo pensato anche d'intesa con Stefano Cecchetto di raccontarla attraverso le immagini della mostra le muse inquiete la Biennale di fronte alla storia che i cinque direttori artistici della Biennale Cecilia Le Mani per arte Hashim Sarkis per architettura Alberto Barbera per cinema e poi i direttori di danza musica e teatro hanno realizzato nel 2020 quando a causa della pandemia si è stati costretti a rimandare l'edizione di architettura perché non avrebbe sicuramente avuto quella completezza di esposizione di rappresentazione che una mostra internazionale con le partecipazioni nazionali avrebbe avuto e la Biennale di fronte alla storia perché rappresenta attraverso i documenti d'archivio che vengono dall'ASAC dall'archivio della Biennale ma anche da altri archivi di importanti istituzioni tra i quali i primi l'istituto Luce rappresenta come la Biennale di Venezia sia stata nell'arco della sua attività nell'arco del Novecento testimone dei principali accadimenti guerre rivoluzioni lotte sociali cambiamenti anche dal punto di vista dell'etica nei comportamenti ne sia stata testimone e a volte sia stata anche promotrice del cambiamento attraverso le sue attività e questa stessa mostra è la dimostrazione di come l'istituzione sia allo stesso modo interprete del momento perché proprio nel 2020 quando sembrava che tutto dovesse essere fermo che nessuna attività potesse essere avviata ha trovato all'interno del proprio meccanismo organizzativo del dialogo con i propri direttori l'idea di realizzare qualcosa e di mantenere aperti i giardini e nello stesso anno ricordo è stata fatta la mostra del cinema l'unica mostra del cinema che si è svolta nel 2020 adottando una serie di meccanismi organizzativi e di procedure e così si sono svolti anche i festival di danza musica e teatro e quindi appunto questo legame tra Venezia e la Biennale proprio per rispondere a un'esigenza che era della città cioè di reagire anche alla pandemia con delle attività con una proposta culturale consentitevi di iniziare un po' prima del dopoguerra proprio perché questa lunga relazione tra Biennale e la città va interpretata va compresa partendo dall'origine dall'origine nel 1893 quando il sindaco Riccardo Servatico propone di realizzare a Venezia un'esposizione internazionale d'arte la propone ma non è un'iniziativa isolata è l'iniziativa di una visione completamente politica del sindaco che ha una e nasce da una sua diversa sensibilità verso la cultura urbana in quel momento Venezia era da un lato considerata come una meta del Grand Tour ma dall'altro era una città che era fortemente aperta a un nuovo sviluppo industriale manifatturiero era una città molto popolata era una città di contrasti tra situazioni di benessere e situazioni di degrado con un alto grado di analfabetismo un alto grado di mortalità infantile e allora per promuovere uno sviluppo della città che non rimanesse soffocata anche dallo sviluppo industriale Servatico immagina da un lato l'avvio di un'esposizione internazionale d'arte che nasce da subito con l'intento di essere ripetuta ogni due anni però nello stesso anno nel 1893 da ricordare che viene istituita la commissione per le case economiche popolari proprio per promuovere una edilizia che potesse rispondere alle esigenze di un gran parte della popolazione che in quegli anni abitava ai piani bassi e che sovraffollava Venezia e nello stesso tempo si guardava anche a una nuova prospettiva di turismo che non era quella un po' diversa dal Grand Tour ma era l'avvio del turismo balneare e quindi dai bagni che erano davanti recintati davanti a San Marco si guardava anche già a Lido nel 1900 viene costruito l'Hotel de Ben quindi ha un'idea di balneazione di bagni sassi case popolari bagni sassi e biennale e se poi andiamo a vedere io intanto scorro vi faccio vedere delle immagini che erano esposte in mostra e sono immagini appunto del nostro archivio questa è la foto dell'inaugurazione del proarte del padiglione che oggi è il padiglione centrale che allora venne rapidamente costruito in modo da poter inaugurare nel 1895 ma questo è il manifesto della prima biennale dove si parla di un sistema di feste veneziane regate concerti e quindi era proprio l'idea di guardare a un sistema più complesso che non fosse la sola iniziativa culturale da notare che Riccardo Servatico si dimette prima dell'apertura della prima esposizione internazionale d'arte e lui che è esponente della grande sinistra lui succede Filippo Grimani che governerà fino al 1919 come esponente nella parte opposta della destra però diciamo che qui nasce sono vado passo velocemente negli anni del fascismo che sono anni comunque importanti per l'istituzione che appunto parserano nella prima sala del padiglione centrale della mostra e sono anni in cui la biennale si trasforma da iniziativa della città a ente dello Stato si tenta il podestà chiede ripetutamente a Mussolini di poter avere un'autorizzazione permanente alla realizzazione della mostra ma gli viene negata no veniva autorizzata volta per volta questo perché era chiaro l'idea che lo Stato intendeva recepire sotto il proprio alveo l'istituzione l'iniziativa e tanto è vero che nel 1930 verrà istituito l'ente autonomo l'ente autonomo esposizione internazionale d'arte che poi nel 1933 diventerà la Biennale di Venezia ed si inserisce all'interno di una visione più complessiva perché negli stessi anni nascono la quadriennale di Roma e la triennale di Milano e così come queste altre istituzioni vengono considerate uno strumento di diplomazia culturale a vantaggio della politica generale si dice che all'interno della Biennale si svolgono la Biennale e la Ginevra delle arti proprio perché si dispiega in tutte le sue diverse attività e in più gli si affiancano le partecipazioni nazionali che nel 1932 sono 12 e salgono a 15 nel 1934 quindi inizia questo progressivo interesse da parte dei paesi alla partecipazione delle mostre negli stessi anni nasce la mostra del cinema nel 1932 nasce la mostra del cinema fin dal 1924 si è stata avviata l'industria cinematografica negli anni si cominciava a passare dal sonoro al cinema a colori e crescevano le case di produzione nel 1924 nasce l'istituto luce ovvero viene trasformato in ente di stato l'istituto luce nel 1929 nascono gli Oscar e quindi si crea questo sistema della cinematografia e Venezia recepisce quindi al proprio interno come ulteriore motore di promozione culturale ma anche ovviamente economico la mostra del cinema che serve poi anche a rilanciare un turismo balneare un po' stanco del Lido come dice il conte Volpi dice il Lido è un po' stracco esiste in una registrazione che conserviamo in archivio e quindi tutto questo viene integrato nel sistema viennale ahimè gli anni del fascismo però condizionano dopo la marcia di Roma del 22 diciamo le cose il rapporto comincia a mutare mutare soprattutto rispetto alla mostra del cinema perché progressivamente la partecipazione internazionale di film alla mostra viene sempre più limitata a quella di film dell'area tedesca o italiana così come i film premiati progressivamente sono italiani o tedeschi questo inizia già nel 38 e nel 39 finché nel 40 si svolge la settimana cinematografica italo-tedesca e questo capite che come reazione a questa prospettiva in Francia i francesi grossa industria cinematografica decidono di realizzare Cannes Cannes si deve tenere la prima edizione nel 30 del settembre del 39 ma in tre rivade la Polonia e quindi questo fa saltare il tutto quindi inizierà dopo quando si arrivaverà anche la mostra del cinema che che riparte nel nel 46 con la prima edizione che si svolge al cinema San Marco nel teatro Maliban e nei giardini della Biennale quindi con questa voglia comunque dell'istituzione di prontezza e di riapertura dopo la guerra questo vi faccio vedere appunto queste sono le immagini dell'assetto dei giardini nel anteguerra ecco sappiamo che poi questa è la famosa foto di una delle prime mostre del cinema che si tenevano sulla terrazza dell'hotel eccelsio perché sarà solo nel nel 36 poi che si avrà la costruzione del del palazzo del cinema e questa è la visita del re alla mostra del 37 nel 44 i giardini vengono avvocati e destinati a studios di cinecittà che deve essere appunto viene esodata a Venezia per continuare la produzione mentre appunto la capitale è sotto la guerra cosa succede nel nel dopoguerra qui c'è appunto il momento della rinascita con il progetto di questa grande Venezia coesiste il progetto di questa grande biennale e infatti è la biennale del 48 che è una biennale fondamentale a cui vede appunto la partecipazione di mostre collettive importanti come quella del fronte nuovo delle arti ma accanto a queste vanno ricordate delle personali di Picasso di Kokoschka di Klee ci sono importanti retrospettive perché si vuole anche recuperare ciò che nel frattempo è accaduto nel mondo e poi la collezione di Peggy Guggenheim nel padiglione greco anche questo momento importantissimo e proprio sì il progetto di biennale si pone molta attenzione Giovanni Ponti che è il commissario che è anche sindaco il cosiddetto sindaco della liberazione appunto promuove una commissione di cinque critici e di cinque artisti che devono provvedere alla programmazione di questa mostra del 48 ma insomma i critici sono Barbantini Raghianti Longhi Venturi Pallucchini gli artisti Carracca Soratti Marini Morandi Seneghini insomma c'è tutta la volontà di concentrare l'attenzione perché la biennale da un lato doveva essere uno strumento per qualificare le presenze istituzionali della nazione dell'Italia e dall'altro doveva continuare ad essere un organismo vitale ed utile ad arricchire la prospettiva della grande Venezia e nel frattempo inizia continua lo sviluppo in questa sia una visione moderna ed ambiziosa lo ricordava prima anche il professor Isneghi a Venezia sono presenti personalità che sono la cosiddetta seconda generazione industriale vengono nel mondo dell'elettricità della chimica delle public utilities e continua e si sviluppa inizia lo sviluppo di Porto Marghera con questa visione per cui la terraferma doveva essere una struttura un'infrastruttura industriale assorbire parte del sovraffollamento della città mentre la città storica doveva mantenere ospitare i centri direzionali e in qualche modo in questo modo anche preservare l'aspetto architettonico della città da un eventuale sovraffollamento erano altri tempi evidentemente ecco le immagini le scorro perché sono sempre comunque delle immagini affascinanti ci danno l'idea di come in quel momento veramente fosse un momento fondamentale della città arriviamo agli anni agli anni sessanta e in particolare agli anni sessantotto diciamo che appunto la Biennale è testimone e interprete di questi movimenti e in particolare al suo interno il sessantotto è un momento importante perché vede le contestazioni degli artisti sia nella mostra d'arte sia nella mostra del cinema è un momento importante per l'istituzione perché si riaccende e si accelera queste istanze di riforma dell'istituzione stessa è un momento importante perché gli artisti questa è la famosa contestazione ai giardini ma non so se mi hanno inserito questi sì sono gli artisti che in segno di protesta rovesciano le tele all'interno e qui vediamo come la stessa città riassorbisse fosse testimone del clima del tempo e dicevo iniziano è un momento fondamentale per il biennale perché dalla contestazione arriva la rottura la decisione di sospendere i premi per la mostra d'arte viene sospesa l'ufficio vendita interno della biennale e si inizia una faticosa discussione che porta a una riforma del 73 che ahimè è una riforma che doveva essere strutturale e a dare una nuova prospettiva ma in realtà è frutto di una mediazione dei partiti dell'epoca e certamente non porta diciamo nulla di nuovo sotto il profilo dell'efficienza organizzativa c'è un consiglio fatto di composto di 19 persone ognuno esponente di diversi aree e di interessi e è lo stesso consiglio di amministrazione che invita gli artisti a partecipare alle mostre voi capite quanto questo sia una assoluta complicazione e burocratizzazione dell'organizzazione però la biennale continua ad essere comunque riferimento di mostre interessanti e di qualità e vive negli anni settanta a un momento sotto la presidenza di Ripa di Meana improntato all'interdisciplinarietà impegno politico soprattutto per la visione del del neonominato presidente che da un lato forte diciamo forte della nuova regge si impegna per rifondare ricostituire le attività purtroppo senza un appoggio chiaro da parte delle forze politiche le stesse forze politiche che l'hanno nominato perché se tenete presente che di solito a ogni diciamo riforma segue anche un adeguato sostegno che in termini di finanziamenti e di contributi il povero Ripa di Meana invece si trova i contributi dimezzati e di volta in volta deve andare a cercare i finanziamenti per le attività però la visione è una visione interdisciplinare che apre a spazi della città prima non usati questa è la sezione delle muse inquiete dedicata alla presidenza di Ripa di Meana questi sono questa Merce Cunningham tutta la danza che si danza teatro perché all'epoca le attività di danza rientravano ancora nell'ambito del settore teatro in Piazza San Marco le mostre che vengono organizzate queste proposte di Munino Stucchi che appunto Gregotti che all'epoca è direttore del settore arte ma all'interno di arte ha anche questa sezione che preannuncia all'architettura che invece diciamo istituzionalmente nasce nell'ottanta insieme a Ronconi questa è la danza degli anni del settantacinque Europa Danza realizzata con l'UNESCO l'hotello al petrochimico appunto c'è il coinvolgimento anche di luoghi della città diversi la mostra su razionalismo l'architettura nella chiesa di San Lorenzo qui siamo alla Biennale Arte del 76 Ambiente Arte con la sezione di Celant e questa Ripa di Meana davanti a Cacornale della Regina perché Ripa di Meana in tutto questo immagina e per questo individua una sede per l'archivio storico attorno al quale costruire l'istituzione perché fino ad allora si era trattato di iniziative nei diversi settori ma ancora non si riconosceva la Biennale nell'ambito di un unico cappello di un'unica istituzione e nel fondare l'archivio Ripa di Meana ha probabilmente questa intuzione di trovare un luogo dove tutte le arti poi si consolidano e si storicizzano di quegli anni rispondere quello alle istanze ai movimenti del tempo e la Biennale dedicata al Cile con i murales che abbiamo riproposto nella mostra delle Muse inquiete ma che erano in realtà distribuiti nei campi di Venezia nel 74 nel 77 invece la Biennale del dissenso che Ripa di Meana vuole dedicare al dissenso negli anni 80 continua questa attività di Biennale si svolge la prima mostra di architettura che coinvolge nuovi spazi della città e per la prima volta le corderie dell'arsenale con la strada novissima e il teatro del mondo ma non mi dilungo poi in queste specifiche iniziative perché poi so che altri relatori dopo di me ne entreranno più nel merito e Luigi IX il prometto di Luigi IX che si realizza la chiesa di San Lorenzo a cui il Festival di Musica dedica il programma proprio per la realizzazione di questo progetto speciale sono anni in cui a Venezia comunque cominciano a svilupparsi insieme a Biennale altre istituzioni importanti ricordiamo che è nell'80 che la collezione Guggenheim si configura e si diventa museo Peggy Guggenheim e lo stesso nell'83 inizia anche l'attività che Fiat ha rispetto a Palazzo Grassi in questi anni poi partono le crescono le partecipazioni nazionali ultimo il padiglione della Corea che mi sembra risalga all'85 la costruzione e poi quella serie di carnevali che da 79 all'82 Maurizio Scapparro realizza proprio su sollecitazione della città al fine di uscire da anni che erano stati complicati gli anni 70 che avevano chiuso gli abitanti proprio per tutti i conflitti l'alto grado di conflittualità sociale che aveva riguardato il territorio e quindi il ritorno alla vita attraverso i carnevali a questa iniziativa così successo che poi diventerà solo il comune la ingloberà all'interno delle proprie attività anche qui non mi dilungo perché so che chi con più competenza della sottoscritta poi parlerà dei carnevali di Scapparro arriviamo agli anni 2000 gli anni 2000 perché sono fondamentali proprio per diciamo tirare le fila di questo rapporto tra Venezia e la Biennale e la sua istituzione dopo un periodo di distasi si arriva a un nuovo statuto alla fine degli anni 2000 nel 98 un nuovo statuto che dà una riorganizzazione all'istituzione e che segna il ruolo di Biennale negli ultimi vent'anni all'interno della città è uno statuto che gli dà una forma giuridica più snella la toglie dall'alveo del parastato e la trasforma in un soggetto giuridico di diritto privato con procedure organizzative che sono di diritto privato e quindi con una capacità organizzativa più efficiente e sostanzialmente la fa diventare un'attività terziaria diciamo a valenza internazionale che agisce in controtendenza rispetto all'attività volta al turismo al turismo di massa che contraddistingue la città negli ultimi anni abbandonando l'idea di analizzarla semplicemente dal punto di vista dell'indotto economico cioè di cosa quanto beneficio economico porta nell'attività di Biennale la città che poi diventa un tema anche abbastanza banale perché non si tratta di portare soldi non è quello il valore che l'istituzione considera proprio della sua missione ma analizzando quali sono gli effetti quantitativi e qualitativi dell'attività di Biennale possiamo pensare che allora la Biennale è un'unità produttiva che produce valore aggiunto sotto diversi profili allora innanzitutto è un'organizzazione composta da 120 persone dipendenti stabili a questi però si aggiungono altri dipendenti temporanei che costituiscono i gruppi di lavoro necessari per realizzare le attività che la fanno crescere fino a gruppi di 500 persone direttamente dipendenti da Biennale naturalmente poi acquista servizi specializzati tecnici per realizzare le proprie attività quindi significa porta e chiama a lavorare lavoratori professionisti con alza specializzazione tecnica che sono necessari per investimenti la progettazione e la produzione dell'attività sviluppa addirittura un ufficio interno tecnico che provvede al risanamento e al restauro delle sedi nelle quali opera questo è un punto fondamentale le sedi non sono di Biennale ma per statuto sono del Comune di Venezia che per legge le mette a disposizione però a un certo punto si comprende anche su sollecitazione dei direttori artistici che per ritornare ad essere una grande Biennale degna del progetto Grande Venezia le mostre hanno bisogno di spazi idonei di grandi spazi non solo limitati al padiglione centrale dove si svolgevano un tempo le manifestazioni da qui inizia dagli anni 2000 tutto il meccanismo di recupero e quindi di rivitalizzazione di un'area dell'arsenale che era occupata ma per brevi periodi e anche per parti limitate perché comunque anche la mostra le corderie vengono usate nel passato ma sempre per periodi limitatissimi e anche per spazi limitati e lo fa attraverso lo sviluppo di professionalità interne che a loro volta sono poi in relazione con le altre istituzioni perché tutto questo bisogna dirlo non lo sta facendo Biennale non l'ha fatto e non lo fa da solo ma lo fa anche con altre istituzioni che lavorano sul territorio in modo altrettanto efficiente prima di tutti la Felice di Venezia le attività di Biennale però chiamano in città anche tutta una serie di artisti ogni anno di architetti di loro assistenti di musicisti di danzatori di coreografi di tutor che seguono le attività di college che precedono e seguono le singole manifestazioni con la mostra del cinema attira attori registi produttori e tutte le maestranze che seguono la produzione cinematografica per non parlare dei giornalisti che nell'arco delle attività si avvicendano su Venezia credo che solo la mostra d'arte conti 9000 giornalisti accreditati nell'ambito di media nell'ambito della sua durata chiama e riceve le richieste di partecipazioni di nuove partecipazioni nazionali è interessante vedere come man mano che anche nuovi paesi penso a tutte le nuove repubbliche balcaniche come ottengono riconoscimento all'ONU come appunto hanno nazionalità riconosciuta chiedono anche di partecipare alla biennale e quindi riportano a Venezia sostanzialmente come un luogo deputato ad accogliere la diplomazia culturale la nuova le nuove nazioni unite ma della cultura accanto ai paesi partecipanti arrivano a Venezia anche nuove istituzioni private che accrescono l'offerta culturale qualificata arriva François Pinot con l'investimento su punta della dogana e Palazzo Grassi arriva la fondazione Prada arriva la fondazione VAC che ahimè la guerra ha costretto a sospendere le attività ma che comunque finché è stata operante è stata soggetto promotore e offerente di iniziative di primaria importanza ha promosso una sorta di community building attraverso e con le scuole riportando attivando rapporti con le scuole del territorio per riportare non solo studenti delle scuole medie e primarie in visita alla mostra ma attraverso loro interessare i genitori e le famiglie a ritornare a visitare Venezia la Biennale ma anche le altre mostre e le istituzioni insomma il valore che per la città intende come proprio obbligo e missione generare è proprio quello di creare reputazione e arricchire offerta la città di offerta qualificata soprattutto per le giovani generazioni si dimostra quindi un soggetto che è capace di gestire situazioni complesse di creare programmi volti allo sviluppo e alla formazione della ricerca e della produzione e l'ultimo esito e poi chiudo l'ultimo progetto di tutto questo qual è? è il ritorno all'archivio che poi la stessa mostra ci ha fatto meditare e comprendere ovvero l'archivio che appunto raccoglie la documentazione dall'inizio dalle prime biennali fino ad oggi diventa un luogo dove anche le attività correnti si consolidano e diventano oggetto di ricerca e di approfondimento per nuovi progetti futuri nuovi studi nuove ricerche da parte di studenti e ricercatori non solo con riferimento all'istituzione ma anche in collegamento con tutte le altre istituzioni proprio al fine di creare un bacino comune di dati di informazioni che possano generare nuovi progetti nuovi progetti culturali e nuovo valore questo è il nostro contributo dell'istituzione alla città che non facciamo da soli ma con tutti gli altri grazie grazie all'avvocato Deborah Rossi che ha fatto questo percorso sulla Biennale che resta comunque un polmone attivo per le attività culturali della città e anche un polmone economico come ha detto prima per l'indotto che produce anche dal punto di vista turistico e culturale e adesso la parola alla dottoressa Calabi per un approfondimento sulla città grazie 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 per essere qui io non vi parlerò né di vedova né di arti figurative ma di città città intesa come realtà materiale negli insediamenti quella che si è trasformata la realtà insediativa che si è trasformata si è andata trasformando a partire dall'immediato dopoguerra vorrei partire proprio dal 1945 mi è sembrato giusto però intrecciare questo tipo di riflessioni con alcune considerazioni sulla pianificazione urbanistica sulla progettazione urbanistica sulle decisioni politiche in merito anche quando queste poi non si sono realizzate o si sono realizzate soltanto in parte perché la mia ipotesi è che il periodo dell'immediato dopoguerra fino a tutti gli anni 50 sia un periodo estremamente vivace in cui l'idea di un futuro di pensare a un futuro di Venezia fosse molto presente presente non solo negli enti istituzionalmente preposti il comune la provincia il ministero dei lavori pubblici ma anche nelle istituzioni culturali in una serie di enti culturali che erano assolutamente presenti e attivi in merito all'idea di un possibile presente e futuro da riarticolare sicuramente non privo di contraddizioni contraddizioni che sono state definite ottocentesche in alcuni momenti perché vedevano contrapposti da un lato quello che è stato chiamato l'enigma della modernità dall'altro l'ideologia della venezianità elementi che erano sicuramente presenti ancora negli anni dell'immediato dopoguerra e in tutti gli anni 50 però se pensate un momento a quali sono i settori nei quali si è intervenuti si è intervenuti dal punto di vista della realtà materiale sicuramente dal punto di vista della progettazione sono settori ne cito quattro che sono assolutamente presenti nel nostro dibattito oggi il primo è quello della casa in laguna con Saccafisola e la Giudecca in terraferma con il villaggio San Marco si sono fatte le realizzazioni più importanti di fatto dal punto di vista quantitativo e forse anche da un punto di vista qualitativo qua il discorso si ampia e diventa più complicato rispetto ai periodi successivi sicuramente il problema della casa sappiamo essere oggi uno dei problemi che mobilita più di tutti l'attenzione politica e non solo il problema del piano regolatore come si chiamava allora ma sub specie ripensare agli accessi a Venezia che significava nel bene e nel male pensate bene nel bene e nel male piazzale Roma da un lato e l'aeroporto dall'altro con lo spostamento dell'aeroporto di San Nicoletto del Lido e l'apertura di Tessera e la questione di piazzale Roma e l'assetto della porta di Venezia piazzale Roma con i concorsi che sono stati messi a bando in quegli anni l'isola del tronchetto non dimentichiamo non a caso faccio un parallelo fra gli anni 45-50 e oggi non dimentichiamo che oggi si parla di un'ulteriore espansione del tronchetto dell'isola del tronchetto e di una nuova isola di fronte a Fusina per il conferimento dei fanghi con l'apertura del canale Vittorio Emanuele quindi sono questioni che sono tutt'oggi sul pacchetto e poi la successione delle leggi speciali io vi confesso che non ho riletto tutte le leggi speciali ma che ho l'impressione che varrebbe sappiamo che oggi si parla molto della rivendicazione che il Comune di Venezia sta facendo per avere una legge speciale per Venezia varrebbe la pena di rileggerle perché le declinazioni al di là dei finanziamenti che sono stati più o meno consententi delle diverse leggi speciali le declinazioni i titoli che queste hanno avuto non sono sempre state lo stesso non sono sempre state genericamente una legge speciale per Venezia ma il peso di volta in volta assunto dalla questione della salvaguardia della parte insulare della città e invece gli investimenti in terraferma non sono sempre stati gli stessi così come non è stato sempre lo stesso l'attenzione al problema del turismo che è comparso ad un certo momento ed è scomparso poi in una legge speciale successiva per lasciare il posto invece a una maggiore attenzione alle questioni idrauliche di innalzamento delle acque il problema dei mari in definitiva io credo che questi siano questi quattro che ho menzionato temi ancora oggi molto attuali con oggetto di contrapposizioni di scelte politiche in una fase se considerata dall'immediato dopo guerra in cui si era spostato in modo importante l'attenzione da considerazioni sulla Venezia monumentale a quella che è considerata o è stata considerata o è stata classificata come l'architettura minore non è una novità quello che io sto dicendo l'hanno rilevato recentemente solo la settimana scorsa in due sedi molto diverse da un lato Romanelli inaugurando la mostra su Italico Brassa all'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti dall'altro Maura Manzelle al congresso dell'AISU Associazione Italiana di Storia Urbana Ferrara pochi giorni prima quindi sono questioni assolutamente sentite ma io credo che possiamo in qualche modo tentando di fare una sintesi molto molto sintetica e anche un po' semplicistica ancora accettabili cominciamo dal 1946 scusate sono un po' scolastica ma vorrei veramente citare alcune date e alcune tappe perché credo che possa essere utile alle nostre riflessioni nel 1946 scusate viene nominato sindaco il comunista partigiano antifascista l'avvocato Giovatta Gianquinto che rimane in carica fino al 1951 5 anni il quale si impegna moltissimo nel settore della casa riprende le indagini che erano delle indagini assolutamente strepitose io credo se riviste oggi avviate da Raffaello Vivanti che era l'allora ufficiale sanitario del comune di Venezia il quale nel 1939 aveva rilevato i piani terre inabitabili del città di Venezia insulare ne aveva rilevate 1245 nel 1948 lui stesso rifà lo stesso censimento e arriva a contarne ben 1769 quindi un incremento davvero pauroso tutto questo per spingere nella direzione di redigere un piano generale di risanamento del centro storico che appunto il sindaco Gian Quinto decide che è una delle missioni principali della sua sindacatura ma in contemporanea anche il piano di ricostruzione di mestre e terraferma un piano dice Dorigo a distanza di qualche anno privo di vincoli di indirizzi di pianificazione una sorta di ombrello e uno sviluppo edilizio indiscriminato sostanzialmente guidato dalla speculazione edilizia con questo voglio dire che in questi primi cinque anni dalla fine della guerra si consolida un'idea di una ricostruzione binaria a doppio fronte da un lato occorre salvaguardare la città storica e rilevando gli aspetti di inabilità della stessa dall'altro spingere lo sviluppo edilizio in terraferma sono in qualche modo due facce della stessa medaglia nel contempo maturano una serie di iniziative culturali qui mi ripeto ripeterò alcune delle cose dette anche da Islinghi mi scuso ma appunto nel 1945 Giuseppe Samonà riassume assume nuovamente la carica di direttore dello IUAV dalla quale si era dimesso negli anni della Repubblica di Salò chiama come insegnante insegnanti negli anni immediatamente successivi i grandi nomi dell'architettura prende come assistente Egle Trincanato ma via via chiama Luigi Piccinato nel 1948 Franco Albini Giovanni Astengo Ignazio Gardella e Bruno Zevi nel 49 Saverio Muratori nel 50 nel 52 per periodi anche Ernesto Rogers che organizza a Venezia e sono importanti e andrebbero ristudiati oggi i corsi estivi dei Cian riprende la mostra del cinema è già stato detto con proiezioni al Malibran al Cinema San Marco ai Giardini della Viennale l'anno dopo anche con proiezioni nel cortile di Palazzo Ducale nasce il fronte nuovo delle arti nel 47 vengono organizzate indipendentemente dal fronte delle arti ben 200 mostre nella sola città di Venezia nel 51 la fondazione Giorgio Ascini nell'isola di San Giorgio sono anni quindi di una vitalità secondo me altissima veramente molto importante e attenta a pensare al presente e al futuro di questa città dentro storico e terraferma gli anni 50 l'attività politica e di pianificazione vanno un po' di pari passo dal 52 si arriva ad un'amministrazione democristiana dal 52 al 59 e poi i sindaci socialdemocratici fino al 61 nel 54 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approva un progetto comunale d'ufficio per la sistemazione di Piazzale Roma subordina però la realizzazione a un concorso pubblico che viene bandito nel 56 al quale viene presentato un solo progetto che viene considerato non attendibile non ammissibile e quindi accantonato intanto la cosa di Piazzale Roma l'ipotesi che Piazzale Roma debba essere la porta della città si trascina si trascina lungo in tutto il decennio successivo cioè in tutto il decennio degli anni 50 e fino agli anni 60 viene affidato a Valeriano Pastor nel 62 e poi a Gelner il progettista del villaggio di Borca di Cadore nel 64 l'ipotesi di progettare Piazzale Roma le loro idee sono riprese in un piano particolareggiato della testa di ponte che poi viene accantonato e questa è una storia tipica di questi anni a Venezia una quantità enorme di progetti di progetti che investono anche architetti molto noti e che però poi spesso sforciano nelle ipotesi di farli collaborare cosa non semplice e poi accantonati nel 55 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approva la progettazione dell'Isola del Tronchetto la progettazione e la realizzazione dell'Isola del Tronchetto che viene proposta come area attrezzata sussidiaria della testa di ponte per la città insulare nel 64 quindi anche qui tempi molto lunghi il Comune bandisce un concorso internazionale per la sistemazione di Piazzale Roma e dell'Isola del Tronchetto e nel 66 incarica i ben 17 vincitori per l'Isola del Tronchetto del concorso per l'Isola del Tronchetto di fare un progetto concordato che ovviamente non dà un esito chiaro perlomeno non un esito chiaro io lo ricordo in modo un po' confuso facevo il primo anno di architettura si parlava moltissimo del concorso del dell'Isola per l'Isola del Tronchetto ricordo un numero di architettura cronaca e storie in cui Zevi strepitava contro i progetti presentati e contro le scelte dell'amministrazione comunale ricordo anche un progetto assolutamente visionario ma non ho avuto il tempo di riprenderlo in mano nel quale Samonà proponeva di eliminare il ponte della libertà in modo drastico e quindi l'accesso automobilistico alla città insulare sostituendolo con una monorotaia sospesa sulla laguna che avrebbe potuto proseguire fino al Lido e appunto a Sabioni sentite delle vicende che poi tornano nel dibattito successivo nel 1956 peraltro viene approvata la seconda zona industriale mille ettari che si aggiungono al 500 della prima e quindi la crescita in terraferma procede nel contempo sono approvati dei provvedimenti che non so se si possono chiamare veramente legge speciale per Venezia ma vengono chiamati salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risalamento civico e di interesse turistico e qui viene inserito la valenza del turismo come uno degli elementi fondamentali di questa legge speciale che destina 3 miliardi in 10 anni per interventi di risistemazione di canali fondamenti e restauro di edifici privati ho l'impressione ma prendete questo come beneficio di inventario che la maggior parte di questi finanziamenti vadano poi a grandi edifici e grandi proprietari anche qui si rivendica sempre la redazione di un piano regolatore e di piani particolareggiati che dovrebbero essere realizzati entro due anni non vengono realizzati entro due anni ma si costruisce saccafisola che si colloca fra il 1954 e il 1958 intanto lo diceva prima qualcuno Isneghi l'esodo comincia l'esodo della popolazione cresce la domanda di case amestre crescono i profitti degli speculatori cresce a macchia d'olio l'insediamento di terraferma e come dirà Dorigo in un libro successivo ma credo che andrebbe riletto con attenzione io l'ho fatto solo per parti una ricostruzione in gran parte assurda sulle antiche maglie del territorio mestrino sede di comunicazione rurali e di lagare di modestissime edilizie operaia di tipo monofamiliare dove precedentemente c'erano aree colture agricole lo stesso anno 1956 il comune bandisce un concorso di idee per la redazione del piano regolatore generale dove vengono presentati quattro sono i progetti classificati rispettivamente Pastor e il suo gruppo Astengo e il suo gruppo Daniele Calabi e il suo gruppo Quaroni e il suo gruppo che saranno definiti dal comune una ristretta cerchia di intellettuali che avevano cercato un legame molto diverso tra di loro avevano cercato un legame tutti e quattro tra l'ampiamento di Porto Marghera la città insulare e quella di terraferma ma i loro progetti vengono accantonati completamente mentre nel dibattito si comincia a parlare in un modo assolutamente insistente di centro direzionale il centro direzionale diventa una sorta di slogan che attraversa un po' il dibattito di tutti gli architetti della scuola di architettura del dibattito politico eccetera dopo molti sindaci democristiani arriviamo lo diceva prima Islenghi al centro-sinistra assessore all'urbanistica Vladimiro Dorigo che spinge nella direzione dell'adozione di piani e si propone di bloccare la caotica proliferazione residenziale in terraferma e la dispersione delle 122 lottizzazioni con scriteriate spinte speculative però nel contempo si occupa di case e le costruisce le fa realizzare in qualche modo in a casa una casa IACP villaggio San Marco sono tutte operazioni che avvengono tra il 1950 e il 1960 e nel contempo lo dicevo prima viene posta la prima pietra dell'aeroporto di Tessera quindi l'espansione della città si sta modificando al di là delle discussioni e del dibattito urbanistico della progettazione da parte degli architetti tuttavia le idee degli architetti in qualche modo permeano di sé le realizzazioni che vengono fatte da questo punto di vista mi corre l'obbligo di ricordare un'attività culturale molto significativa del 54 quindi parallela a tutto questo discorso che vi sto facendo che è la mostra Venezia Viva tenutasi a Palazzo Grassi nel 54 i cui protagonisti sono Samonà Trincanato e Mazzariol che affrontano i tre problemi quelli che sono sempre stati sul tappeto e che vengono sempre declinati insieme la città del passato la città attraverso i secoli i problemi del presente la città del futuro e concludono con la possibilità necessità di una legge speciale per Venezia da cui le cui fragilità ormai sono assolutamente evidenzi per tutti che ipotizza quindi la salvaguardia fisica ambientale e socio-economica come caratteri interrelati l'insistenza sull'interrelazione tra salvaguardia fisica ambientale e socio-economica è in qualche modo la conclusione di questa mostra che ha avuto un peso credo nel dibattito culturale se non negli esiti realizzati assolutamente importante è una fase di fertile di ipotesi e di progetti prima dell'alluvione del 66 perché poi con l'alluvione del 66 io credo che cominci veramente una fase molto diversa per la città il libro di Dorigo che ho appena citato ma che aveva citato prima di me Isninghi una legge contro Venezia natura storie interessi nella questione della città e della sua laguna è stato pubblicato molto dopo Roma editore officina 1973 ma andrebbe riletto con attenzione per questi anni credo perché credo che avesse delle intuizioni assolutamente significative anni 60 gli anni 60 sono scanditi inesorabilmente credo nel modo di pensare il presente e il futuro e gli strumenti messi in atto dall'alluvione alluvione che è lo saprete lo ricorderete quelli più giovani non lo ricordano ma lo sanno che aveva colpito Firenze ma aveva colpito in maniera drammatica anche Venezia e che in un certo senso può sembrare una semplice continuazione di attività iniziate precedentemente appunto negli anni 50 ma in realtà credo che tenda a far ripensare questa città in modo diverso ci sono sicuramente alcuni momenti cardine già menzionati sia quando dall'avvocato quando parlava di Biennale che dai Senghi del tipo ripensamento alla città moderna il concorso nazionale per l'ospedale civile Mazzariol la chiamata di Le Corbusier il dibattito sul rifiuto dei progetti degli architetti moderni da Frank Lloyd Wright in volta di Canale a Louis Kahn successivamente insistenza sulle leggi speciali è significativo e non so come interpretarlo ma credo che dovremmo rifletterci un momento che nel 66 appunto dopo l'alluvione viene approvata una legge speciale in cui non si parla più di turismo ma si parla di carattere lagunare e quelli che sono i temi importanti sono quelli dei piani per la laguna per l'inalzamento delle acque quindi per i problemi idraulici della laguna viene istituito il comitatone quindi veramente cambia la scala e l'attenzione che viene posta rispetto alla città naturalmente poi in parallelo invece ci sono una serie di avvenimenti che riguardano anche la città fisica compresa quella insulare la Ciga Venezia alcuni alberghi importanti il Danieli il Lido le due università che diventano molto più importanti la biannale abbiamo sentito descrizioni minute e sistematiche contemporaneamente il canale dei petrogli Malamocco Marghera quindi dei cambiamenti di scala contemporaneamente a piccoli piccoli relativamente piccoli realizzazioni all'interno della città insulare molto significativi il raddoppio del ponte ferroviario nel 68 nasce anche l'ufficio UNESCO di Venezia sempre conseguenza in qualche modo come dire risultato dell'alluvione l'ufficio UNESCO di Venezia che con le università con alcuni professori dell'università ma anche con alcuni professori stranieri particolarmente attenti a problemi minuti di assetto edilizio della città avviano delle indagini assolutamente fondamentali non tanto per l'esito immediato ma per l'esito negli anni successivi per esempio quelle avviate da Bruno Fortier Cervellati e Ennio Concina che contemporaneamente utilizzando fonti assolutamente differenti dalle fonti dell'archivio di Stato a quelle invece della riflessione sulla tipologia e la morfologia edilizia cominciano ad avviare riflessioni su come intervenire nei centri storici in parallelo a quello che sta succedendo per esempio a Bologna o altrove quindi questioni che si muovono su piani diversi altra istituzione che credo poi alla lunga sia particolarmente importante istituita dopo l'alluvione del 66 i comitati privati stranieri per la salvaguardia di Venezia quindi rapporto dell'UNESCO su Venezia con i personaggi che ho appena nominato e sostenibilità integrata centro direzionale Venezia come centro direzionale del Veneto ricerche storiche intelligenti e raffinate che diventano premesse per scelte urbanistiche dell'amministrazione di centro sinistra sindaco Mario Riga assessore Salzano costituzione dell'ufficio urbanistico del comune di Venezia fra il 1985 e il 1995 all'insegna della classificazione delle tipologie del centro lagunare che hanno avuto un impatto non piccolo assolutamente importante nei modi di intervenire in questa città ma che poi sono stati completamente ribaltati dal sindaco Massimo Cacciari e dal suo assessore Roberto D'Agostino quindi momenti di svolta che andrebbero ristudiati io veramente mi scuso non mi limito a citare queste cose perché credo che meritino una riflessione e un'attenzione particolare nel 68 nasce anche il FOSES questo consorzio per lo sviluppo economico e sociale ufficio studi promosso da Mazzariol con alcuni giovani funzionari tra i quali il più noto probabilmente è Paolo Costa e che poi viene chiuso nel 2012 in parallelo lo diceva prima Islenghi la crescita delle università l'università di Caffoscari che attiva il corso di lavoro in lettere e filosofie e poi a distanza di un po' di anni quello di storia poi chimica industriale quindi l'università che da istituto di economia come era nato e poi di lingue straniere diventa una università a 360 gradi gli anni 70 quindi sono degli anni che meritano sicuramente la nostra attenzione e in modo particolare ma io qua non entro troppo nel merito di queste questioni perché vorrei veramente sottolineare come gli anni 45-50 sindaco Giovanna Gianquinto e poi il decennio 50-60 costituiscono un momento di riflessione sul presente e sul futuro di Venezia di grandissima vivacità che va in parallelo con le considerazioni fatte dai miei predecessori dei relatori che mi hanno preceduto e che meritano davvero un'attenzione del tutto particolare possiamo poi parlare di tante altre cose nel 78 il primo referendum è già stato citato per la separazione Mestre-Venezia che poi si ripete tante volte le questioni di reti di comunicazione metropolitane rompere la bipolarità Mestre-Venezia allargando all'area metropolitana Padova-Treviso eccetera approntamento degli alloggi di rotazione uno degli esempi più fallimentari di fatto della storia urbanistica di Venezia ma che era assolutamente uno dei nodi fondamentali dell'assessore Edoardo Salzano che ipotizzava di poter salvaguardare le case e di mettere nel mercato delle nuove case di edilizia economica popolare ipotizzando questa rotazione di abitazioni che appunto poi non è stata realizzata per nulla insomma una serie di considerazioni che per il momento lascio da parte e che eventualmente riprenderemo in altra sede si ringrazio la professoressa Calabi per questa macchina del tempo che ci ha portato indietro in questa città che come abbiamo anche sentito dal suo intervento riesce sempre ad aprirsi e chiudersi in se stessa città d'acqua e di pietra quindi con due anime in qualche modo ma quella d'acqua prevale e questo sarà appunto l'argomento dell'intervento del professor Ferlenga proprio di un teatro mobile che si muove nell'acqua grazie ecco perfetto ma dunque io sarò molto lo si dice sempre ma lo sarò sul serio molto breve perché mi interessa soprattutto ricordarvi alcune immagini che sono immagini che tutti voi probabilmente la maggior parte di voi avrà visto si ricorderà in qualche modo che riguardano una vicenda anomale una vicenda particolare che è entrata come una sorta di se non apparisse rispettoso di pietra di inciampo quasi nella vicenda complessiva della città come qualcosa di straniante di strano di molto particolare pur all'interno di parte delle vicende di cui voi avete parlato in fin dei conti la storia che riguarda ciò che sta alle spalle di questa vicenda di questo oggetto sostanzialmente è la storia di un personaggio abbastanza anomalo da molti punti di vista un po' perché lo voleva essere un po' perché ci giocava un po' perché lo era realmente un personaggio anomalo nella vicenda architettonica italiana un personaggio che è stato direttamente coinvolto nelle storie che vi avete raccontato è stato direttore della Biennale della Biennale dell'Architettura nell'85 e 74 per due anni sostanzialmente ed è stato un importante professore in più fasi nella vicenda almeno in tre fasi potremmo dire della vicenda Iua però è stato anche un personaggio un architetto lui amava dire con quel tanto esnobismo che lo caratterizzava architetto un po' per caso avrebbe potuto essere altre cose lui diceva un filosofo uno scrittore di fatto era una persona con cui era quasi impossibile parlare d'architettura era un tema che praticava ma non praticava nel dialogo sapeva memoria intere parti di film che recitava insomma o di pezzi letterari eccetera eccetera una figura in effetti abbastanza strana anche come formazione perché nasce nel 31 a Milano è troppo giovane per partecipare alla resistenza come invece alcuni suoi amici stretti all'inizio stretti come Giancarlo De Carlo fecero dentro un ambito di formazione che era sostanzialmente anche anomalo accademicamente Aldorossi è un architetto che ci ha messo dieci anni a laurearsi ma nel frattempo lavorava dentro questa grande fucina importantissima fucina di riflessione che era la Casabella di Rogers che Donatella ha nominato Rogers anche nei suoi passaggi veneziani insomma una formazione tutta esterna all'università parlerà sempre abbastanza male delle università sempre anche qua con un certo snobismo ma anche con una certa convinzione di fatto avrà anche un'esperienza dal punto di vista universitario abbastanza tragica perché abbastanza drammatica perché questo lo ricordo direttamente quando sono entrato nel 73 all'università al Politecnico di Milano tutto il consiglio di facoltà del Politecnico di Milano cioè tutti gli ordinari erano stati licenziati dal Ministero erano stati licenziati per la questione degli esami collettivi perché avevano dato ospitalità agli ebaraccati di via Tivaldi che era una via milanese capitanati da questo giovanissimo eccentrico dal punto di vista di come si vestiva il preside che era giovanissimo Paolo Portoghesi con capelli lunghi giacchi a quadri eccetera eccetera che capitanava sostanzialmente le rivolte di quegli anni che erano rivolte in seconda battuta perché Milano un po' come Roma era partita presto con l'occupazione del 62 e poi del 63 e quindi aveva anticipato anche quelli che sarebbero stati i 20 poi del 68 Rossi era anche troppo vecchio per aver partecipato al 68 quindi troppo giovane da una parte troppo vecchio dall'altra troppo esterno per appartenere a quella borghesia molto milanese molto consolidata a cui appartemano più o meno tutti i suoi amici come Canella come Gregotti anche se non era di Milano ma insomma come altri che frequentavano appunto quel importante salotto che era Casabella però in quegli anni nasce anche un'idea come dire diversa in gran parte anti-accademica perché come Donatella sa Rogers ha avuto una vicenda accademica complessa complicata non era amato non si capiva bene se era uno storico un architetto insomma ha avuto una carriera molto difficile e il grosso della formazione di questo gruppo di persone che poi è anche un gruppo basculante tra Venezia e Milano soprattutto perché ne facevano parte appunto già alcuni veneziani e altri milanesi che sarebbero poi arrivati a Venezia come appunto Gregotti come De Carlo come lo stesso Canella insomma in momenti differenti si costruisce tutta a partire da un'idea che è un'idea fondamentale cioè l'idea che in un momento particolare che era ancora di post guerra sostanzialmente perché negli anni della Casabella di Rogers comunque in ogni caso il paesaggio delle città italiane e di Milano in particolare era un paesaggio di distruzione e che è durato molto a lungo le fotografie di Peressuti lo mostrano per molti anni Milano è stata una città distrutta e il compito di questo gruppo di giovanissimi architetti il compito che ci era dato a partire da questo grande maestro che è stato Ernesto nato a Rogers era proprio quello di darsi una cultura diversa perché la cultura architettonica che avevano a disposizione pur avendo prodotto grandissimi architetti da Libera Moretti a Terragni non era adeguata per cambiare sostanzialmente e per rinnovare l'Italia in quel momento questo è forse stato l'elemento generazionale più forte che giustifica una certa linea dell'architettura italiana ce n'erano anche altre non meno importanti storie individuali ma qui si è costruita un'idea che la necessità sociale storica dell'architettura fosse legata anche ai compiti di rinnovamento culturale e di conoscenza una conoscenza che riguardava anche molto la capacità di comprendere le città di studiarle cioè l'idea molto banale che le città potevano essere raccontate dal punto di vista delle statistiche degli andamenti demografici ed altro ma questo non ci avrebbe restituito un'idea di quelle città perché le città sono fatte di architetture di forme di rapporti fra spazi di tempi che sono parallelamente in vita noi non viviamo nella città contemporanea fatta di futuro di presente di passato contemporaneamente e l'idea era che questo dovesse essere lo sfondo l'idea di quei giovanissimi architetti tenete conto che stiamo parlando di architetti che avevano 20 anni 22 anni 23 anni alcuni di loro un pochino di più ma nei tempi della redazione di Casabella del centro studi eccetera questa era più o meno l'età dei più dei più giovani l'idea era appunto che la città dovesse essere studiata e in fin dei conti questo è stato un po' nel bene o nel male il senso del libro più famoso di Aldorossi che è l'architettura della città che nasce a Venezia nasce dai primi passaggi dell'architetto a Venezia Aldorossi era stato chiamato a Venezia inizialmente dal suo carissimo amico Carlo Aimonino che gli chiede delle lettere molto belle anche rispetto a questo che gli chiede di partecipare come suo assistente rifiuterà in una prima fase e poi accetterà c'è un dialogo molto intenso tra i due che in quel momento come quasi tutti gli altri appartengono al partito comunista ma c'è una specie di rottura di rottura anche qua leggibile attraverso le lettere che poi attraversa separa anche in parte alcuni di loro dopo il 56 il 56 l'invasione dell'Ungheria è l'anno in cui Aldorossi si stacca sostanzialmente dalla sua operatività a militanza all'interno del partito anche qua c'è delle lettere molto belle tra i due si scrivono moltissimo che è testimonio di questa crisi Carlo Aimonino che va diritto per la sua strada dice sì è uno sbaglio però bisogna andare avanti Aldorossi che parte per altri per altri lidi potremmo dire e anche di quegli anni una certa diversità di Rossi rispetto al tema della comunicazione il saper comunicare le cose la capacità di comunicare attraverso l'architettura e anche attraverso la parola c'è una c'è una pubblicazione un libretto che forse Donatella lo conoscerà ma non è così facilmente reperibile si intitola Come è bella la città ed è un libretto che raccoglie un dibattito che c'era stato era stato organizzato da Saverio Vertone e da Nuova Società la rivista di Torino all'indomani dell'uscita delle città invisibili grossomodo d'Italo Calvino vi invito a andarlo a vedere perché ci sono tutti presenti ci sono presenti i più grandi poeti italiani c'è Calvino c'è Moravia c'è Sciascia ci sono registi ci sono scrittori c'è un forte gruppo una presenza compatta di veneziani Tafuri Polesello Marcialis Semerani sono presenti dentro e lì si determina anche una certa un evidente distacco diciamo proprio rispetto alla capacità di comunicazione e anche alla capacità di intravedere anche quello che stava succedendo il testo più bello è il testo di Calvino il testo di Calvino in quella pubblicazione è bellissimo e dice una cosa subito fondamentale per conoscere le città lo spiega gli architetti per conoscere le città bisogna soprattutto togliersi dagli occhi ciò che impedisce di vederle e dice tutto questo poi leggendo è abitudine perché si guardano le cose e non le si compra proprio perché ci si passa vicino si tende a non capirle ma anche le ideologie anche tutte le sovrastrutture che ci impediscono di vedere le cose è abbastanza interessante confrontare la lungimiranza Calvino quest'anno ricorre il centenario c'è un importante convegno alla sapienza e per la prima volta tra l'altro c'è una sezione specifica dedicata all'architettura il rapporto tra Calvino e l'architettura che passa attraverso varie pubblicazioni ma c'è una certa evidente discordanza tra questa relativa incapacità della componente veneziana di togliersi dagli occhi quello che impediva di vedere rispetto invece a questa capacità esterna tutta esterna di Calvino di mettere in evidenza alcune cose questo non per snaturare in quegli anni quegli architetti veneziani stavano fondando una nuova teoria della città ma se guardate l'intervento per esempio di Manfredo Tafuri Manfredo Tafuri un po' sprezzante a chi prima di lui aveva parlato di New York e dice non preoccupiamoci perché tanto il capitalismo tra una decina d'anni crollerà e quindi anche le città del capitalismo avranno questa non è esattamente andata così ma quello che è importante è capire che lì c'era una certa incapacità di comunicare anche le cose più importanti che quella scuola stava affermando e quella scuola stava affermando unica tra tutte le scuole italiane che la conoscenza della città era questione fondamentale era poi anche della storia ovviamente non parlo di questo perché poi Venezia è stata anche la culla della storia dell'architettura ma questa è una storia che più di me Donatella potrebbe raccontare ma dal punto di vista degli architetti c'è stato in quel momento c'è stata questa grande capacità questa capacità di dire e di scrivere attraverso libri la città di Padova è stato forse il più importante di questi libri e Carlo Aimonino la persona che politicamente ha saputo tenere assieme anche tutte queste anime diverse che il leggere le città era qualcosa di fondamentale dal punto di vista degli architetti e anche qua prima Donatella ha citato un personaggio che pochi conoscono che è Saverio Muratori Saverio Muratori viene chiamato appunto fino agli anni 50 e Saverio Muratori è all'inizio è veramente il punto di partenza di questa vicenda tutta italiana di lettura della città fa un testo fondamentale che queste due in particolare che sono rilievi la storia operante di Venezia e poi di Roma darà inizio a una serie di altre letture su Como ed altro ma sarà anche l'inizio di un rinnovato interesse verso la città dal punto di vista accademico la sua è stata un'esperienza disastrosa se ne va da Venezia torna a Roma e a Roma viene identificato come sostanzialmente l'esempio massimo della reazione fino al punto di venire isolato accademicamente praticamente osteggiato totalmente dagli studenti e così via la cosa particolare è che però nel proseguo dell'esperienza veneziana quelle stesse cose esattamente quelle stesse cose il rapporto fra tipologia edilizia e morfologia urbana per leggere la città la città storica e il rilievo come fase formativa fondamentale diventano invece la bandiera degli studenti progressisti dal punto di vista culturale specialmente a Milano e poi a Venezia degli studenti del 68 e Aldo Rossi in questo caso mostra fin dall'inizio una sua capacità che poi si dimostra anche forse l'aspetto più interessante delle sue opere architettoniche essere un grande collettore di cose esistenti un compositore di cose che esistono di cose che già ci sono lo fa con la cultura l'architettura della città è un collage dove le idee di Saverio e Muratori l'apporto di Levi Strauss dei geografi francesi eccetera viene sapientemente mescolato con l'attenzione però di prendere da quelle culture non citate come dire pedissequamente di prendere ciò che poteva arricchire il punto di vista degli architetti e cercare di costruire quel punto di vista il libro è quasi illegibile cioè è molto difficile come molti testi di quegli anni sono illegibili il territorio dell'architettura di Gregotti eccetera eccetera molto difficilmente comprensibili però è stato all'inizio più che altro di una possibilità direi di una speranza che non si è realizzata dai seguaci di Aldorossi è stato considerato un trattato la fine di quel libro le parole di Rossi sono è solo lo schizzo di un'idea che potrebbe essere costruita non è mai stato considerato poi da lui un vero trattato ma c'è questa idea una seconda volta questa volta non dopo la ricostruzione non dopo Casabella ma dopo il 68 dopo gli anni 70 dopo le rivolte del 69 eccetera eccetera che anche lì servisse una nuova cultura che l'architettura dovesse e che però questa cultura non poteva essere tutta estratta dall'esterno dovesse fondarsi sulle proprie ragioni più profonde la città era una di queste di queste ragioni allora questa è stata un po' anche se volete l'anomalia di un personaggio che era a Milano ma fino a un certo punto era dentro una rivista ma fino a un certo punto era nell'università era un grande cattedratico dell'università un grande accademico ma insomma tendeva in quella fase questa questa era un'immagine di Santiago di Compostella questo del 76 è quell'immagine insomma un punto di vista interessante e poi passo semplicemente a mostrarvi delle immagini perché ha messo anche in evidenza quello che a Venezia qualche volta serve cioè uno sguardo esterno uno sguardo esterno per non avvolgersi proprio nella venezianità di cui parlavate e questo sguardo esterno per fortuna di sguardi esterni ne ha avuti diversi il momento in cui la vicenda la seconda vicenda il secondo passaggio di Aldorossi a Venezia ha avuto ha avuto luogo il primo è quello della formazione di questa teoria sostanzialmente il secondo ha coinciso con l'opera di cui appunto appunto parliamo erano anni anche importanti per l'architettura la professora si parlava del fatto che nell'80 poi nasce in realtà la biennale architettura la biennale architettura in Italia era la triennale prima c'era stato Gregotti e la mostra eccetera eccetera però come dire l'ufficialità nasce sostanzialmente in quegli anni e non è il primo luogo è Milano dove la triennale prima di tutte mette l'architettura tra le componenti essenziali della sua attività con una mostra importantissima Paolo Portoghesi nella mostra le corderie non solo fa vedere per la prima volta le corderie che già lì per sé erano una una visione spettacolare una scoperta anche per i veneziani e un po' per tutti ma lancia sostanzialmente quello che verrà poi chiamato post-modern sostanzialmente un nuovo stile quelle facciate dentro cui troverete presenze anche inaspettate c'è Collas per esempio che sicuramente è difficilmente attribuibile a quella vicenda se lo si guarda da fuori e dentro la quale Rossi non ci sarà ed è abbastanza singolare perché Rossi che è ritenuto uno dei principali dall'esterno uno dei principali interpreti del post-moderno in realtà nella strada nuovissima non c'è lui sempre con quel vezzo snobistico che lo contraddiceva che lo caratterizzava diceva no non potevo essere post-moderno perché non sono mai stato moderno questo è un po' una buttada ma in parte è anche vero aveva un'idea dell'architettura che era abbastanza anomala molto personale irreplicabile non è possibile in un'architettura che è tutta basata sull'autobiografia e il secondo libro più importante è l'autobiografia scientifica che ha avuto un peso ancora più forte forse rispetto è stato pubblicato in America beh non si può in un'architettura che nasce dall'autobiografia non si può copiare l'autobiografia di un altro e questo è stato purtroppo invece qualcosa che non sia che non è stato capito da molti seguaci che per molti anni hanno rinnovato senza anima una vicenda architettonica molto molto personale però e qui appunto andiamo questo è l'ultimo atto per dire beh la Fenice la Fenice concorso controverso lo sapete non era stato vinto da Aldorossi Aldorossi muore nel frattempo lascia solo devo dire quello spettacolare disegno che vedete sotto questa specie di sezione è l'unico suo apporto diretto beh tutto il resto è attribuibile più al suo studio però è anche il segno di una presenza continua dell'idea del teatro che attraversa tutta l'architettura di Aldorossi un po' per ragioni familiari sua moglie è un'attrice di teatro lui stesso era molto era estremamente come dire era un fan potremmo dire di Carmelo Bene ovviamente del primo Streller eccetera eccetera quindi era molto più interessato al teatro potremmo dire che all'architettura nella sua prima fase e il teatro del mondo è sicuramente un momento centrale di questa passione ma è anche forse l'esempio più eclatante di questa capacità che io prima attribuivo alla teoria cioè il mettere assieme cose che già esistevano ricomporre cose esistenti che è esattamente anche la cifra principale del teatro del mondo perché il teatro del mondo è stato scritto molto da questo anche molto Tatafuri per esempio che in quel momento dialogava moltissimo con Aldorossi e questo è stato uno dei caratteri più fertili dello Juav di quegli anni cioè un dialogo fra componenti diverse urbanisti storici architetti che purtroppo non si è più ripetuto o molto meno si è ripetuto nel passato fino a creare dei recinti separati il teatro del mondo era il mondo dell'arsenale era il mondo effimero delle impalcature di una città che era sempre in cantiere ma era anche il mondo delle mostre degli allestimenti settecenteschi seicenteschi di quella città effimera sostanzialmente che tra le altre cose in quegli anni Tatafuri aveva studiato in modo molto ampio anche qui Rossi prende da tutto questo prende tutto questo ma con quella sorta di aggiunta di una leggerezza che forse è stato il carattere più fortunato di quest'opera un'opera che non è un'opera facile nasce nell'ottanta è la Biennale Teatro non è dentro la Biennale Architettura la Biennale Architettura in quegli stessi anni però questo è stato fatto per la Biennale Teatro il Carnevale l'ha traversato ma non era stato fatto per il Carnevale e ha alcune caratteristiche alcune caratteristiche che ne hanno fatto una specie di piccolo mito potremmo dire proprio mito nel senso quasi greco perché è effimero muore giovane molto giovane lascia un ricordo molto forte ed è anche l'inizio non solo di un modo diverso di una potenzialità poi non espressa dell'architettura ma anche della carriera poi internazionale di Aldorossi è forse una delle opere più viste nel luogo più guardato al mondo probabilmente è un'opera che nasce senza disegni anche qui c'è un aspetto se volete albertiano nel senso di Lombattista Alberti che è un grande modello di Rossi per cui l'architettura è pensata ancora prima di essere disegnata non ci sono disegni se non schizzi di questo tipo è anche dubbio che anche questo sia originale perché vengono fatti successivamente ed è un'architettura narrata in cantiere sostanzialmente un'architettura che solo dopo vede dei disegni i disegni che diventeranno più famosi tipo questo sono disegni che appartengono alla fase più commerciale di Aldorossi che costruisce a posteriori anche il mito del teatro stesso ma il teatro stesso ha avuto anche una vicenda successiva perché è diventato come direi l'elemento di misura di molti altri progetti rossiani un po' come le città come Milano e Venezia lo erano per i progetti o lo sarebbero diventati per i progetti che poi nel mondo ha incominciato a produrre cioè le due città erano il modello per lui ma anche fisicamente misurare quegli spazi vedere quei frammenti di architettura con cui poi ha costruito altri progetti anche a dimostrazione che la vicenda di una città non è mai solo la vicenda di quella città e Venezia su questo dà degli esempi sublimi ma è la vicenda di molte città che vengono i cui pezzi vengono collezionati copiati eccetera eccetera il teatro del mondo beh appunto ha una mi ricordo in quegli anni lavoravo a Lotus Manfredotta Furi ci chiede di ridisegnare l'isola davanti a San Marco con il teatro ed è un'immagine che viene proprio pubblicata nel Lotus sostanzialmente in uno dei Lotus di quegli anni il teatro del mondo ha una sua dico mito perché c'è una gli antropologi dicono che all'inizio di ogni città c'è un viaggio sostanzialmente il mito di ogni città è legato a un viaggio da Roma di ogni città italiana Roma Mantua Venezia stessa sostanzialmente questa è una piccola opera che involontariamente all'inizio e poi forse anche un po' consapevolmente nasce attraverso dei viaggi che attraversano la città e attraverso l'uso di materiali più semplici a disposizione questo è il punto questa è una sequenza di fotografie molto belle fatta da Antonio Martinelli che è l'unico fotografo che ha fotografato tutto lo sviluppo del progetto da Marghera dai canali di Marghera fino appunto ai viaggi al viaggio essenzialmente attraverso l'Adriatico che poi vedremo nasce con tubi allora si chiamavano tubi d'almine o tubi innocenti cioè nasce da quello e da perline cioè da assi sostanzialmente e poi un po' di colore assume fin da subito un'apparenza che ricorda un po' gli allestimenti teatrali di West Side Story o alcune opere del realismo socialista ci sono tante cose ma è anche inutile seguirle perché poi è importante quanto di tutto questo si è dimenticato perché poi quell'opera lì quell'oggetto lì non è riconducibile direttamente a nessuna anche per fortuna di quelle opere di riferimento appunto ci sono dei dei disegni degli schizzi di Massima c'è la presenza costante di un cantiere che diventa anche un momento di visita sono fotografie molto belle di Paolo Portoghesi di Semerani dei figli di Carlo Imonino delle famiglie che vanno a visitare l'inizio di questo di questo di questo cantiere e poi c'è un rimorchiatore anche qui è un po' un piccolo mito che si chiama l'argentino che lo estrae dalle dalle paludi in qualche modo dai bordi della laguna per incominciare questo viaggio verso la città viene viene pitturato è un piccolo teatrino teatrino di tipo elisabettiano potremmo dire dove tutto avviene molto molto traballante perché ovviamente si muove e questo è un effetto che dà una certa parte mal di mare per chi per chi lo soffriva ma insomma dà anche un certo effetto perché attraverso quelle finestre si vede un orizzonte sempre sempre mutevole e incomincia appunto dopo essere stato colorato dopo aver avuto questa questa sfera di rame che è attualmente la biennale che è l'unica parte sopravvissuta del teatrino la sfera che vedete sulla cuspide infatti è stata utilizzata per mostre e così via e inizia questo viaggio inizia questo viaggio che fin da subito mostra una capacità abbastanza singolare di apparentarsi con tutto quello che incontra e sostanzialmente lì c'era anche un po' una conferma di una certa idea dell'architettura di Rossi di questo rapporto con ciò che non dogmatico con un contesto con contesti differenti che in realtà il teatrino esprime molto più forse dei suoi scritti queste fotografie sono bellissime fotografie in sé ma mostrano anche questa capacità di relazione che non è così scontata da parte di opere d'architettura risale i canali basta davanti al Molino Stù che arriva nel bacino di Palazzo Lucale Piazza San Marco per avere appunto poi la sua dislocazione alla punta della dogana e anche lì con naturalezza afferma una capacità di relazionarsi a quello che è forse l'orizzonte più ricco e più difficile da interpretare cioè qualunque architetto a qualunque architetto tremerebbe riporsi nell'idea di fare un'opera in quel punto ma c'è una facilità una felicità dice Rossi parlando di quell'edificio nel suo essere semplicemente fatto di quasi nulla però anche da interpretare storie diverse storie domestiche ma anche storie storie vere storie pesanti che è l'aspetto più importante forse di quel teatro quel teatro che viene praticato durante la biennale di Scaparro ci sono delle manifestazioni a punto interno attraverso il teatro e poi riviaggia e poi inizia un altro viaggio anche qua questo viaggiare è parte fondamentale anche dell'impressione che ha lasciato lascia Venezia e arriva verso Dubrovnik c'era credo una biennale teatro in quel tempo quindi viene trasferito quindi attraversa sostanzialmente l'Adriatico e poi ritorna e questa è un'immagine molto bella devo dire del ritorno ritorna a Venezia a Venezia ci saranno dei tentativi non a Venezia ma ci saranno dei tentativi successivi di ricostruirlo a Venezia viene ricostruito in una mostra ai magazzini del sale Gaia Ulenti e un modello che lì vedete che è un modello in scala a Genova si cerca di ricostruirlo ma si toglie un elemento essenziale perché mettendolo a terra ovviamente si perde gran parte del suo fascino vive però e continua a vivere attraverso tantissimi altri disegni diventa un protagonista di questo mondo molto teatrale attraverso cui Aldo Rossi interpreta sostanzialmente anche molto personalmente le città questa è la vicenda di una piccola opera di un'opera in cui non è rimasto niente ma non aveva senso che rimanesse qualcosa perché era fatto di materiali molto semplici che mostra come l'architettura in alcuni casi possa avere la capacità anche in una città che ha tantissima storia di far capire delle potenzialità e delle possibilità che magari tanti altri scritti o tanti altri saggi non sono riusciti a far comprendere ovviamente non è da tutti Aldo Rossi ha avuto questa capacità grazie si ringrazio il professor Ferlinga tra l'altro che mi ha fatto ricordare che il teatro di Aldo Rossi era anche l'emblema di Venezia e lo spazio scenico una mostra importantissima ha fatto la Biennale nel 79 a questo proposito io avevo chiamato anche il professor Brusatin per chiedergli se voleva essere presente a questa serata e lui invece mi ha risposto sai sono vecchio e potrei parlare solo di nostalgie e le nostalgie come sai fermano il futuro questo è comunque un tratto che volevo ricordare però questo discorso di Venezia e lo spazio scenico adesso sarà portato avanti da Roberto Bianchini e Cristiano Piarot proprio sull'argomento del teatro della festa che c'è stata in quegli anni buonasera la resurrezione del carnevale di Venezia sta dentro allo scenario che avete delineato e per certi aspetti è uno degli eventi più clamorosi e più inaspettati non solo per la città di Venezia ma anche per il resto del mondo perché il carnevale di Venezia anticamente era e stato per molti secoli il carnevale più importante del mondo voi sapete che il carnevale di Venezia morì alla fine del settecento con la caduta della Repubblica di Venezia sostanzialmente 1797 si è vero sopravvisse in alcune piccole forme con gli austriaci ai primi dell'ottocento con un grottesco albero della libertà piantato in piazza San Marco ma furono delle cose talmente effimere da non aver lasciato traccia successivamente per duecento anni Venezia non ebbe più un carnevale voi direte chi se ne frega può darsi certo ma nella storia del costume c'è anche questo sopravvisse in realtà in alcune realtà autoctone l'isola di Burano per esempio ha continuato sempre ininterrottamente a fare carnevale anche nei duecento anni in cui Venezia non l'aveva più idem in cui interraferma a Campalto la sfilata dei carri l'ultima domenica di carnevale si è sempre continuata a fare per terza cosa mi vengono in mente le festine delle scuole nei padronati dove i bambini ma solo i bambini ormai continuavano a tirarsi dietro i coriandoli questo per duecento anni poi che cosa succede le cose non nascono mai per caso alla fine degli anni settanta avete delineato voi uno scenario in cui stavamo per uscire dagli anni bui del terrorismo c'era la voglia di uscire di casa di riprendersi le città delle piazze di tornare a fare festa anche Bagolo come si dice a Venezia in piazza e verso la fine degli anni settanta dei movimenti diciamo spontanei ma che nascevano da questa voglia di uscire fuori spingono dei giovani le spinte vere vengono sempre dei giovani notate nella storia come nascono e poi magari si dimensionano altrimenti ma qui gli studenti del liceo artistico di Venezia cominciano a giocare ormai cresciutelli a 16 anni 15 17 18 a portare in piazza le festine di carnevale che continuavano a fare a scuola e cosa fanno prendono delle lenzuola da casa dei sacchi di farina e cominciano ad andare in piazza a San Marco a tirarsi dietro fra loro sacchi di farina e comincia ad arrivare anche qualche uova che si tirano dietro fra loro finché lo fanno tra loro nessun problema il casino succede quando scusate il francesismo succede quando qualcuna di queste uova colpisce dei passanti e allora anche nei giornali comincia la protesta di questi giovani turbolenti che fanno zizzanie per quello che sembra carnevale invece è solo confusione e anche tra virgolette violenza o fastidio e qui cosa capita Calabi parlava delle classi dirigenti di un tempo capita che c'è una classe dirigente che coglie questo barlume dietro a questa scelleratezza delle uova tirate coglie questo barlume di voglia di fare qualcosa e decidono insieme il progetto è condiviso non fu un esempio di una persona sola fu condiviso da un comune e da una biennale e da classi dirigenti e da intellettuali singoli non li voglio citare ma potrei farlo della città che spingono non per rifare il carnevale attenzione qui non parliamo di carnevale spingono per trasferire la rassegna teatrale della biennale in tempo di carnevale questa è la prima chiave clamorosa secondo me del successo non gli interessava rifare il carnevale gli interessava fare il festival del teatro in tempo di carnevale per dare dignità a un carnevale che non c'era più e rifarlo con dignità e questo è il primo punto in cui si inserisce la figura importante di Maurizio Scaparro Maurizio Scaparro che passa per l'inventore del carnevale in realtà è figlio di questo percorso di una classe dirigente cittadina per essere onesti e mettere le cose come stanno Maurizio Scaparro che è il direttore del teatro coglie questa occasione e capisce che il messaggio è giusto e da ottimo organizzatore teatrale prima ancora che è regista decide di costruire un carnevale del teatro nel tempo del carnevale va anche detto maestro il professor Chiarot poi mi dirà se questo è vero o no Maurizio Scaparro detestava il carnevale ma lo detestava veramente o comunque non l'amava proprio non gli interessava assolutamente perché già da ragazzo mi raccontavo una volta da ragazzo aveva una grande diffidenza verso questa cosa ambigua li definiva ambigua il carnevale non capiva quali erano i confini quali erano i margini gli orizzonti ma era affascinatissimo dall'uso teatrale del carnevale perché aveva capito specialmente in quel momento storico in cui volevamo riprenderci le nostre città e uscire la sera capiva questa voglia di leggerezza di spettacolo di riprendersi le città lui interessava il momento del tempo sospeso del carnevale che storicamente era momento di rottura delle regole momento in cui il potere non esercedava più il potere perché al potere andavano le maschere momento di massima trasgressione a lui interessava questo e su questo inventa non voglio dilungarmi perché poi il teatro La Fenice che Cristiano Chiarotto ha governato sa benissimo che ha lavorato insieme con Scapparo e questa è la prima chiave che fa capire come nasce una cosa diversa che non si chiama carnevale ma avviene in tempo di carnevale e allora il teatro anche perché Venezia era la città del teatro è stata la città del teatro credo non mi ricordo se 15 o 17 fossero i teatri aperti nel 700 a Venezia in quel terio dal fine degli anni 70 era rimasta La Fenice e il Goldone il Malibran era ancora in restauro fu finito proprio in tempo per uno dei primi carnevali e quindi Scapparo decide di puntare sul teatro con uno slogan vincente anche lì e nuovo e diverso e trasgressivo teatri aperti giorno e notte giorno e notte poi era un modo di dire era uno slogan realmente però c'erano gli spettacoli a mezzogiorno e a mezzanotte in tutti i teatri io ricordo che al teatro del mondo alcuni spettacoli con l'in-see camp a mezzanotte vennero replicati alle ore 2 perché c'era gente fuori che aspettava e voleva rivedere la cosa una cosa che oggi sarebbe impensabile quindi teatri giorno e notte non era un vezzo di un artista che voleva riempire la città di cose era una necessità per riempire di teatro una città che il teatro se l'era dimenticato più o meno da 200 anni salvo alcune eccezioni e l'altra cosa importante oltre ai teatri aperti giorno e notte è l'uso di tutti i teatri esistenti non erano molti come ho detto ma anche i piccoli dalla vogheria il tag i piccoli teatrini e dove non c'era spazio le chiese sconsacrate o chiese consacrate che mi hanno dato il permesso spazi di comunità di palazzi campi chiese e l'invenzione straordinaria addirittura folle di un teatro nuovo che addirittura galleggia questo è un programma delirante se lo pensiamo oggi di come portare teatro e fare teatro occupando tutti gli spazi con tutti i teatri possibili e dentro a questo l'altra grande secondo me chiave del successo fu il rapporto con la città perché in questo delirio teatrale c'erano certo grandi artisti l'Inzi Campo citato Dario Fo ma potrei citare tutti quelli che ho letto cioè i grandi nomi inevitabilmente servono anche a richiamare grande pubblico ma c'erano tanti piccoli nomi insieme Scaparro che aveva iniziato facendo il giornalista era vice critico teatrale dell'Avanti vice di Ghigo De Chiara quando Ghigo De Chiara non voleva andare a vedere uno spettacolo perché era più moderno mandava Giovanni Scaparro e prima di diventare regista Scaparro quando arrivò a Venezia non portò un suo progetto di teatro chiese quali sono i gruppi teatrali veneziani quali sono le associazioni culturali veneziane venne sei mesi prima andrò a incontrarli tutti parlò con tutti spiegò cosa voleva fare non disse io porto Dario Foley in Sea Camp e Carmelo bene disse voglio capire cosa fate voi chi siete andò a vedere i loro spettacoli i loro progetti discusse con loro e accanto ai grandi nomi portò anche il teatro del Go di Sant'Erasmo dicono nomi veri non inventati come la compagnia teatrale della Bauta ma dalla Vogaria al Tag alla compagnia degli Antichi mille altri personaggi della Venezia che faceva teatro che si occupava di teatro questo voleva dire che costruì il suo progetto insieme a tutte le realtà veneziane e vere operanti creando un progetto condiviso è per quello che i suoi carnevali sono stati così vincenti e così amati e anche così rimpianti perché aveva costruito quello che nessuno poi ha più fatto era partito dal basso con grande umiltà io lo ricordo confrontandosi con tutti poi tirando le fila e facendo questo ecco voglio dire la teatralità del carnevale e chi chiudo e il rapporto con la città due elementi che poi non ci sono più stati avevano creato secondo me la diversità e il successo ma vorrei sentire da Cristiano Chiarò che è stato sovrintendente della Fenice in quegli anni e ha lavorato con Scapparo se è d'accordo o no su questo mio pensiero grazie applausi abbiamo messo d'accordo con prima per i ragazzi che sono un po' meno più tardi e nel rischio la domanda di Roberto nel 1986 Scapparo fece l'ultimo carnevale e mi ricordo proprio con Cesare De Michelis allora su una forte indicazione del sindaco di allora Laroni sudamo veramente molto camicia per convincerlo a rifare il carnevale perché ormai ormai si sentiva un pesce fuor d'acqua cioè si sentiva che poi l'aveva perso e sentiva già che la città rispetto alla città che voi avete ben descritto perché voi avete descritto una città che ha commesso degli errori ma aveva delle idee molto belle molto attraenti ma già nel 1986 ormai la città non era più quella città che in alcune parti di voi è venuta fuori nei vostri racconti chi parla per ultimo deve tenere presente anche le molte sollecitazioni che sono venute da chi l'ha preceduto e purtroppo le sollecitazioni a cominciare da professor Disneghi successivamente sono state molte per cui non starò qua a farvi la storia della Felicia che casomai chiamerete l'attuale sovintendente Fortunato Tombina bravissimo che sta conducendo nel migliore di modi a parlare dell'attuale diciamo che cosa è stata un po' la Felicia rispetto a quello che voi avete messo un po' sul tavolo oggi e mi dispiace che sia andato via il professor Disneghi ma nel tutto il suo grande racconto di Venezia da manca un po' quello che è quello che è stato il ruolo della musica non tanto della musica come tale e tanto per io mi ricordo anche una Butterfly fatta da Aldo Rossi che portammo con grande successo al Palafenice noi non ero sull'internente ero sempre responsabile dell'ufficio stampa però l'avevo già vista dove l'era stata fatta cioè se devo pensare sempre a Aldo Rossi purtroppo le foto che avete che avete mostrato del teatro sono meravigliose è mancata la presenza come ha seguito il progetto lei l'ha fatto vedere molto bene del teatro del mondo e pensando adesso con le regole attuali sui pubblici spettacoli non sarebbe entrato nessuno là dentro adesso come adesso non avrebbe neanche permesso di metterlo lì dove è stato messo dunque bisogna pensare quegli anni anche con anni di fantasia e di una certa libertà che le regole consentivano è mancato il progettista il loco quando il teatro stava crescendo questo è quello che abbiamo sentito nella bellissima foto adesso è una sala di la sala coro perché non avevamo altre sale in alcune meravigliose sale sopra levate bellissime con delle l'avete senza l'altro visto non te le dico a voi ma sono state usate per l'uso che l'uso quotidiano necessario per fare avanti le attività delle prove eccetera eccetera la musica a Venezia è sempre stata qualcosa di importante anche dal punto di vista e lo è stato la Fenice non faccio la storia della Fenice da 1792 ma è sempre stato uno dei teatri che ha sempre sommato momenti di grande di grande procettualità di grandi prime a momenti di crisi come in quasi tutti i teatri i teatri che fanno opera in Italia la Fenice tra l'altro nel 1925 è stata assieme a La Broca Mario La Broca è stata quella che ha consentito la possibilità di fare il primo festival di musica contemporanea che allora che allora era strettamente legato alla Fenice come produttore perché c'è stato con il presidente Baratta abbiamo spesso discorso anche scherzosamente e animatamente sui rapporti che c'erano nei primi festival tra la Fenice e poi diventato naturalmente la Biennale Musica con tutta la sua storia importante eccetera eccetera ma la Fenice all'inizio è stata è stata come dire la base la fondamenta del teatro e la fondamenta del festival di musica contemporanea che nasce nel 1925 come momento anche durante il fascismo di una certa quali libertà voi avete ricordava ricordava Deborah Rossi priva come nell'ambito cinematografico ci fosse stata una forte restrizione durante gli ultimi anni del fascismo per quanto riguarda le libertà nella musica siccome la musica come un po' adesso interessa a pochi e lì ci sono state invece possibilità di sperimentazioni maggiori cioè di poter ospitare anche naturalmente compositori tedeschi non necessariamente anzi non integrati nei regimi nazisti e fascisti la broca perché cito la broca cito la broca perché ha anche qualche interesse nell'ambito di questa di questa tematica sua rivoluzione vedova perché la broca assieme a la broca ex fascista però uno di più purtroppo uno dei più bravi organizzatori musicali italiani assieme a Floris Ligia Mannati Demo Cristiano che veniva dal cinema che era stato nominato sovrintendente nel 61 mette in scena in tolleranza di Luigi Nodo con le scelte di vedova dove credo che in youtube potete un ex fascista e un Demo Cristiano e li difendono anche la scelta mettono in scena questa questo non credo che sia il capolavoro di Luigi Nodo ma senz'altro una delle sue opere più importanti da punto di vista storico nella storia del teatro musicale italiano del secolo scorso e lo difendono lo difendono lo difendono successivamente naturalmente ci sono in internet lo potete ascoltare tutti questi grida di alcuni fascisti organizzati contro che davano i comunisti eccetera eccetera davano i comunisti un ex fascista e un buon democristiano naturalmente che la fede politica di Gigi Nono e di Vedova è ben nota a tutti queste due premesse per dire che come come Fenice badando la sua storia la Fenice è sempre rappresentato un po' dell'ambito di Venezia ah un'altra cosa che uno dei a Venezia uno dei principali il conservatorio è stato un centro importante di musica un suo direttore è stato Gianfrancesco Malipiero uno dei più importanti compositori italiani ma al conservatorio di Venezia tra le altre scusate se ma per dire quanto la città abbia saputo produrre da se stessa ha insegnato e ha studiato Giuseppe Sinopoli e Bruno Maderna è stato un altro un altro grande è stato un altro grande veneziano compositore che ancora adesso come dire è di male di male storica la sua presenza qui a Venezia e chiudo con Claudio Ambrosini perché l'ho visto in una foto che avete fatto vedere giovane vicino a Gigi Nono che è adesso uno dei più importanti compositori veneziano che tra l'altro nella sua carriera può anche vantare un Prix de Rome vinto da List in precedenza nel 1800 secondo i più grandi ritenuti uno dei più grandi compositori che cosa ha rappresentato la Felice perché la Felice anche nel Carnevale ha cercato di in qualche maniera dopo la grande stagione di Scaparro di essere un teatro il più possibile legato alla propria città sia perché ne ospitava ne ospitava ne ospita alcune delle manifestazioni sociali civiche più importanti è sempre stato così nell'alco della sua vita la Felice è stato ospedale è stato teatro è stato di ricovero di armamenti ne ha vissute tantissime di vicende e di vicissitudini però ha sempre cercato di mantenere una propria identità sempre pensando come dire all'importanza di questa di questa quella che ha reso la fondazione nel 1937 quando c'è la grande riforma fascista dei teatri lirici italiani il primo sommintendente è Goffredo Petrassi un altro dei più importanti compositori italiani che per tre anni farà delle stagioni memorabili perché allora non esisteva ancora nella funzione di sommintendente nella funzione di direttore artistico erano i compositori che cercavano di aggiornare il repertorio musicale cercando molto più di adesso di portare in Italia nei teatri le prime assolute che si venivano eseguite in tutta Europa e poi soprattutto cercare di svecchiare il repertorio e non fare sempre le solite 12-15 opere come diceva Albagino che erano sempre le stesse girando tutti i teatri italiani la Fenice ha sempre cercato nella sua storia di interpretare questo e diciamo anch'io quando abbiamo cercato di collaborare con il carnevale cercare di ritagliare una produzione per le giornate del carnevale ben inteso sapendo che rispetto a quando ci sono stati i carnevali di scaparo la situazione è completamente cambiata cioè noi non abbiamo più quel pubblico che c'era una volta il pubblico non abbiamo più i veneziani l'avete detto voi avete ben specificato voi io sono veneziano naturalmente come dire dagli studi che si fanno per quanto riguarda il bacino di utenza che dovrebbe avere un'istituzione come la Fenice non dovrebbe avere nel proprio ambito non meno di un milione e mezzo un milione e otto di abitanti per poter avere un certo tipo di sostenibilità questo non è potuto non può nell'arco dei decenni sempre meno se abbiamo cercato di raggiungere anche perché poi tutta la situazione di trasporti rispetto alla cosiddetta patreve è adesso un po' meglio ma per gli unghiani non è che c'era una mobilità molto facile da Venezia tenendo conto che oltre al tren o cioè arrivando in treno in macchina c'è anche un altro successivo passaggio col vaporetto o a piedi metto questo cioè interpretando un po' anche tutte le cose che sono state dette la Fenice è stata in questa nella nostra città di Venezia un qualche cosa che ha sempre seguito le vicende le vicende e la storia fino a un certo momento perché poi la Fenice soprattutto per cercare di sopravvivere ha dovuto trovare un'altra un'altra tipologia di strada noi abbiamo avuto una legge dell'Ottocento in cui venivano stabiliti una serie nel 67 in cui venivano stabiliti una serie di un numero di fondazioni di teatri lirici per cui lo Stato si impegnava a un finanziamento particolare che non sono i teatri che sono i teatri erano 11 all'ora tenendo fuori Santa Cecilia alla scala che comunque hanno sempre avuto un trattamento particolare successivamente come ricordava anche Debra Rossi anche questo nostro piccolo mondo che però piccolo mondo che rispetto al FUS porta a casa circa il 52% cioè dell'intero ammontare dei finanziamenti per lo spettacolo dal vivo che il governo dà che siano pochi che siano tanti la percentuale che gli dirici riescono a portare a casa è il 52% per ovvi motivi perché per fare un'opera ci vogliono almeno 150-120 persone anche se si fa Mozart comunque se anche la cosa migliora comunque sono sempre più di 100 persone 120 persone che ogni serie lavorano e che cosa che cosa nel 1996 successivamente poi definitivamente nel 98 gli interici italiani sono stati trasformati in fondazioni come diceva sempre prima cito sempre per dare la possibilità a questi teatri di poter avere una gestione una gestione meno pubblicistica più manacereale potendo dando la possibilità alle fondazioni di inserire nel proprio contesto una serie di attività commerciali una serie di attività di marketing che precedentemente avrebbero potuto essere sospettate di deviare dalla strada che la legge 800 imponeva agli interici italiani in questo senso qua la fondazione di Venezia l'attuale fondazione per quanto riguarda noi è stata fondamentale è stata fondamentale perché abbiamo cioè noi siamo passati da una mentalità pubblica cioè sostanzialmente quanti soldi in cassa tanti soldi spende invece da una mentalità economico finanziaria patrimoniale completamente diversa e anche in questo il teatro ha subito delle come dire dei momenti particolari perché l'assestamento per teatri non è stato molto semplice come la Biennale ad esempio dove è arrivata una figura importante che ha potuto come dire ridisegnare la fondazione da noi cioè non è che ridisegni improvvisamente la mentalità di 120 orchestrali 80 coristi legati tecnici non puoi ricambiare il modo di operare di agire però comunque grazie anche all'intervento della fondazione che ci ha dato dei consulenti di carattere economico finanziario abbiamo potuto trasformare si sono trasformati molto trasformati una mentalità una mentalità un modo di agire e ad esempio nell'ambito di questo abbiamo soprattutto poi successivamente quando mi sono state date le responsabilità abbiamo cercato di controbattere a una una forma di festeggiamenti carnevalizi che erano sostanzialmente ormai depreciati anche voi chi visita Venezia o va via da Venezia come molti veneziani lo fanno durante il carnevale vede persone demotivate che ci sono delle calli non sanno dove andare qualcuno in maschera tantissime no ma abbiamo cercato di ad esempio di rilanciare una delle cose che già quando c'era la sommintendenza Trezzini Gomez che dopo quella di Ammannati e Labroca è stata quella che ha più forgiato l'attività della fondazione del Teatro Felice abbiamo rilanciato il Gran Bardo della Cavalchina che era mettere dentro il carnevale o qualche cosa di internazionale di mettere assieme festa di mettere assieme attività culturale di mettere assieme anche godimento e anche un po' come dire di possibilità di deviare almeno per un paio d'ore da dei comportamenti che a teatro generalmente non vengono concessi tipo ballare bere qualche cosa questo d'altra parte questo era quello che si faceva in tutti i teatri veneziani era il successo dei teatri veneziani da quando sono nati nel seicento il primo teatro pubblico a Venezia successivamente c'era tutta Europa che veniva a Venezia per potersi divertire in una certa maniera che in altre città evidentemente un po' più retrive o dalla mentalità meno aperta non consentivano però la Fenice la grande decisione che abbiamo dovuto prendere in un certo momento è come come costruire la programmazione della Fenice avendo 60.000 abitanti o 120.000 abitanti sicuramente con tutta l'attività che si faceva grazie anche alla fondazione con la città metropolitana con biglietteria eccetera ad un accesso molto acevolato rispetto ai prezzi normali abbiamo cercato di capire quale fosse la strada di uscita la strada di uscita è stata quella di fare sostanzialmente due stagioni una per i veneziani perché da veneziano non posso ottenere fede dove si facevano delle prime dove si facevano delle sostanzialmente la parte più innovativa dove si rischiava dove abbiamo potuto fare anche operazioni tipo la quella che abbiamo con il tuo libretto l'acqua grande con 14 repliche di un'opera contemporanea è difficile immaginare ma con la città ci abbiamo fatto c'è due stagioni una stagione per il pubblico normale degli abbonati naturalmente al quale poteva cedere anche il pubblico naturalmente pagante quello che tutti i posti che rimanevano che non erano pochi che rimanevano fuori dagli abbonamenti e poi una stagione quello che si chiama tendenzialmente quello che tutti i teatri europei tedeschi si fa di repertorio cioè cercare di far capire a veneziani che la Fenice faceva una stagione per loro e una stagione invece per i turisti tenendo presente che la stagione il conto economico della stagione dei turisti ripagava il deficit che la stagione che era necessariamente portava la stagione dedicata ai veneziani cioè abbiamo cercato di riportare in una maniera positiva un dato assolutamente negativo perché la presenza di tanti turisti nella nostra città è stato deniato durante questa serata è stata fatta in merce in tutta la sua drammaticità però d'altra parte questa era la nostra possibilità cioè la battuta che facevo sempre è anche se il governo si taglia i fondi noi facciamo tre mesi di goletto tre mesi di traviata tre mesi di barbiere in Sevilla portiamo a casa anche più soldi non perdiamo neanche un posto di lavoro forse i veneziani qualche bonato lo perderemo anzi sicuramente li perderemo tutti però almeno fino a che non avremo dei ministri più illuminati più interessanti comunque la Fenice potrà sopravvivere ma ad esempio la Fenice è sempre stata a disposizione della città una delle grandi cose che è stata fatta è ad esempio il concerto di Capodanno il concerto di Capodanno che ci è costato un sacco di contumelli da parte degli orfani del concerto di Vienna e comunque però una settimana durante un periodo morto della stagione turistica o dove non c'è nulla in città perché giustamente tutti preferiscono diciamo così dedicare quel periodo a una chiusura ecco che noi per circa una settimana proponiamo 1400 posti si propongono perché adesso io sono in pensione continuano a proporre una serialità di un'attività che ha portato l'immagine positiva di Venezia se si può portare un'immagine positiva di Venezia un po' in tutto il mondo perché il concerto anche se non ha l'audience del concerto di Vienna però la RAE lo vende in tutto il mondo e magari chi va in vacanza in Argentina o come è successo una volta all'ex presidente Segre che mi ha chiamato ma perché fanno il concerto mi sono visto nel concerto di Capodanno certo era quello l'anno scorso perché in Argentina hanno dato il concerto di Capodanno dell'anno prima perché avevano comprato quello dell'anno prima ma l'abbiamo dato l'anno dopo e questo è una battuta tanto perché vi vedo molto serio tra poco finisco tranquillo qual è la cosa che il turismo è nocivo il turismo nuoce ma nel nostro nel caso della fondazione Teatro della Finice abbiamo cercato di salvaguardare entrambe le cose naturalmente perché siamo veneziani abbiamo cercato di salvaguardare il pubblico di Venezia il pubblico di Mestre il pubblico di quello che è diventata città metropolitana al quale offriamo una tipologia di prodotti e invece un'altra tipologia dove offriamo la qualità della riproposta di 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 opere che consentono che consentono alla come dire alla alla fondazione di avere una un equilibrio e lo consentono ancora adesso un equilibrio economico di carattere particolari l'ultima cosa è che abbiamo sempre cercato di collaborare anche con le altre istituzioni ad esempio per lunghi anni abbiamo collaborato con lo Juav e una delle prime una delle cose più importanti che abbiamo fatto con lo Juav a parte una programmazione di teatro barocco dedicato a Francesco Cavalli al Malibank di cui un'opera è stata portata anche alla scala abbiamo secondo me fatto una delle ultime grandi ideazioni di Luca Ronconi che era uno degli insegnanti del corso abbiamo riproposto mettendo assieme che una produzione del genere sarebbe costata molto di più perché come dire il cascata di Ronconi e tutta l'attività che c'era dietro Ronconi ha solo alcuni grandi teatri potevano permetterci ma grazie anche appunto alla sua presenza qua allo Juav e grazie a oltre di aver ripreso in toleranza 60 abbiamo rifatto l'usalome di Giuseppe Sinopoli che non era mai stata fatta dopo la prima che aveva avuto luogo una ventina di anni fa a ventina di anni prima di quando l'abbiamo fatta con Venezia a Francoforto e abbiamo riproposto quest'opera di un compositore veneziano con un'iniziativa veneziana e con un'iniziativa veneziana e con uno dei più grandi registi teatrali ma anche nel campo innovativo anche nel campo d'opera lirica come Luca Ronconi grazie anche poi all'apertura dell'ex presidente Baratta noi abbiamo creato due altre produzioni con artisti contemporanei che avevamo trovato assieme una con per la Butterfly adesso purtroppo Moriko Mori una grande artista giapponese abbiamo creato una grande Butterfly che abbiamo portato in tutto il mondo e abbiamo poi fatto una norma con una grande artista a meno una grandissima artista Clara Walker a cui abbiamo affidato anche la regia perché abbiamo capito che con questo tipo di personaggi non ci si può imporre una regista ma bisogna lasciare liberi di agire di sbagliare di agire ma di fare sono due investimenti che abbiamo fatto che continuano ancora oggi ad essere ripresi a distanza di parecchi anni di quando sono nati con la prima non voglio perdere grazie che mi avete ascoltato che avete fatto fino alla fine perché sentendo cioè sentendo molti ci viene un po' a tutti un po' depressione sentendo tutte le cose che ci siamo detti non ci riusciremo mai a questo è chiaro che non invertire non invertire non si potrà credo non so io nel mio modestissimo idea invertire una situazione della città ma finché siete vivi voi siamo vivi noi sono vivi altri come voi io credo che bisogna comunque che qualcosa anche per il futuro e perché il futuro è importante il passato sicuramente ma il futuro a quello cui dobbiamo sponare quei pochi giovani che rimangono con le poche persone di buona volontà che ci sono di spingerli ad agire perché comunque a Venezia la presenza di qualcosa di meglio che sia un turismo di massa anche dal punto di vista culturale e di un carnevale che è ormai diventato cioè un'autorappresentazione di un qualche cosa che in realtà non esiste che forse che non potrà mai più esistere perché nella concezione attuale della visione del performing art o di tutto quello che serve in televisione o di tutto quello che c'è non ha più ha solo senso dal punto di vista di carattere economico per la città e questo è importante dal punto di vista della qualità culturale è difficile ma sperimentando e non abbandonando tutte le strade io credo che quelli spinti da quelli che dal passato vogliono prendere di stimolo del futuro secondo me qualche cosa si può fare questo è che dobbiamo dare un po' di spinta a quelli che adesso sono chiudo con una battuta sui costi della cultura evocati più volte perché mi veniva in mente una frase che Scaparro citato prima diceva a chi lo rimproverava per i costi eccessivi degli allestimenti di certi suoi allestimenti lui rispondeva la cultura costa sì ma l'incultura costa molto di più buonasera si ringrazio Roberto Bianchini e Cristiano Chiarot e volevo chiudere con una frase di vedova perché volevo anche un po' ricondurre tutta la giornata di oggi a quello che è appunto anche l'aspetto di questi incontri nel 2004 durante un mio colloquio con Emilio Vedova gli chiesi maestro ma come è stato essere un artista moderno nella città del dov'era e com'era com'era e dov'era e lui ha detto sai l'artista è sempre trasversale al suo tempo e quando anche la città riesce ad essere trasversale con l'artista allora si crea una simbiosi assolutamente straordinaria io credo che Venezia sia una città trasversale grazie 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 grazie